Siamo arrivati alla fine della discussione e dobbiamo presentare gli ordini del giorno. Io vi do in aula solamente la consigliera Pitotti di quelli che hanno presentato gli ordini del giorno e quindi immagino toccherà fare la presenza di quelli del suo gruppo. In realtà vanno presentati in ordine del vivo, però non capito Patricio non c'è, io non posso, non essendoci io addirittura dovrei andare avanti quando discuterli. Allora vabbè, io direi di cominciare con quelli del Partito Democratico in ordine di presentazione e lascio la parola alla consigliera Pitotti per farglielo stimarli. Cominciamo con quello numero 9. Il numero 9, sì. Mi ricordo tre minuti di presentazione, tre di regalazione di voto, di votazione. Sicuramente questo è un tema che abbiamo affrontato anche il nostro giorno. Sicuramente c'è stato un interesse e anche un'apertura da parte della maggioranza dicendo che era un impegno che si sarebbe discusso, sfiscerato magari anche approfondendo il tema in commissione. L'oggetto è la realizzazione della notata delle luografici delle parti comunali e assabili di Tarpunio-Bollatino che bisogna. So che questa maggioranza è informata sulla pericolosità e sulla nuova decisione di avere questo tratto stradale, perché nel 2006 inizia la poliziatura, è stato fatto l'intervento, cosa che ho citato l'ordine. Quindi il giorno ci trovo e ho provato a migliorare la segnalità di corizzontale e il verticale, sono qui, sono un primo incrocio. Poi, mi sono documentata e ho visto che c'è stato un impegno a gennaio del 2019, quindi c'è stato un impegno a gennaio del 2019, con un impegno che era numero uno di messa in sicurezza di questi cruci, quelli che ho citato in oggetto, tendeva da una parte alto della pericolosità del tratto stradale, confermava anche pari pericolosità da un'uccidenza molto alta del numero di sinistri che si verificano e quindi quella direttiva che partiva agli uffici ripresi della segnalatica di corizzontale e verticale la riparazione dei parapetolari e la predisposizione di un progetto idoneo ma gli incroci in questione, ora io capisco che ci vuole un po' di tempo, ma nel frattempo è lì che i incidenti continuano ad esserci. Ricordo di noi, che parlo di un tropezato, particolarmente dal segato, perché ci sono scuole di tutti e tre, e i croci in strati, c'è un'ufficio posale, c'è un mercato orionale, c'è una chiesa, anche poi c'è un'attività abitativa, che avanza che tutte queste tre cose veste insieme sono quelle che hanno in parte fatto ragione e ragione rispetto a questa direttiva e da l'altro però non hanno previsto il passaggio in successivo, quindi l'intervento da mettere. Io avevo proposto la storia, e credo che senza che ci stiamo andando a spaccare la testa, credo che la forma migliore per vedere anche l'avventamento degli incroci, credo che sia la realizzazione di rotatori, quindi la richiesta è esattamente questa, cioè di tre, rivegli a fondo in mezzo, con la realizzazione di voto, ci sono le realizzazioni di voto? No, andiamo in votazione, troveremo, faccio la realizzazione sotto nella mamma, e quindi non volevo dire che, dunque, come ha sottolineato la collega, che è stata fatta la definitiva, in mezzo a questa cosa qua, e quindi lì, dopo 8 anni, non si parla di voti, per quanto riguarda la richiesta di rotatoria, il gioco almeno non è una cosa che possiamo decidere autonomamente come un'unicicola, nel senso, dunque, quella, quindi, la mobilità e dire da qualsiasi avvocato, di cosa come è successo per Putin, insomma, quindi, ecco, ti va a spingare su quella, su quel discorso, la parola, una cosa in internet, uno che non si è fatto a cosa, niente come un'unicola sulla segnaletica, e poi sulla direttiva di giunta, quindi, che ti vuoi, comunque, perché comunque è una cosa che già è stata, quando è stato, dopo il potere, rispetto. Un'altra direzione di voi? Chi è che manca? Se Giuliano manca gli scrutatori? Gli scrutatori, bisogna sostituire Giuliano, c'è un sullei scrutatori? Sì, sì, sì. Traffi la mia storia, per gli altri c'è, per gli altri c'è, e poi mi... solamente sì, assoluto, si o... le prezioni da quelle come presenzio, non mi sono state. Allora... Sì, per altre direzione di voto? Sì, consideriamo i tratti, in tutto il pargetto Democratico, hanno votato ancora igualmente, però si può, ci ha stretto, quindi abbiamo segnito un intervento, non è stato tosuprescente, crescente e nel 2019, valviamo 10 gennaio, per me in itinere, capisco che serve chiedere il tribuna dell'Auliziano da un sacco di cose, sarebbe apprezzato che si andasse a streggere, visto che la pericolosità del croce di posizione è partenza, poi tracciamo tanti soldi, ci sono questo, per la faccio stare, teneremo che resteremo così per più così, grazie, 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 grazie per dire che ho avuto in questo giorno e non capisco perché, se ne è in itinere, vuol dire, dovremmo interessarmi, non ciò vuol dire con quali soldi verrà, perché di questo stiamo parlando preso l'attento, quindi volevo suggerire che forse su alcune cose, bisogna pure avere il coraggio, e in un di piazza di farlo, ecco, io non ho la copertura, ma le coperture si trovano, e i soldi ci stanno nel piano formale, ma in una cimera, non si deveva, abbiamo passato la macchina della corte, quindi è un'anziavole per la corte, permetteva, controllo, regalazione, non, rotazione, favorevoli, contraria, questo è il seno utile un altro favorevole non è stato un carri a vedere spinto allora io volevo dare montare al suo consigliere del genere operato dove volete muovere se le preferisce così per provare a non c'è la sua fatta e non capire e non gironare giusti giusti spettamol allora anche questo è un tema che è conosciuto in questa ragione perché sempre il partito democratico in interondazioni ha già sollecitato è assicurato competente a trovare una soluzione Non mi so raccontare la tua storia, l'oggetto è, quindi un po' diventato storico, voglio dire, ma c'è questo mellegrino, ma lo dici che come sapete fu una delibera di giugno, è stata classificata sui piatti sportivi, l'uotipi, per direzza, non c'è il posto, quindi stiamo a più oltre a giugno di un essere di confedenza di questo bilancio, anche qui aspettiamo la riapertura di questo spazio che abbiamo preso atto nel corso del 2016 che aveva un abuso all'interno, abbiamo preso atto attraverso le signore di commissioni di Capitolina che si sono svolte sul tema, la presenza anche dell'assessore De Santis, che c'è una necessità, hanno avvoltato a partire questa amministrazione di restituire alla cittadinanza un impianto che c'è, quindi poi si capisce perché se gli impianti ci sono, noi facciamo a cucciare, se c'è un problema questa amministrazione li chiude, non è che risolve il problema, quindi diventa una parte del problema, ci sono tutto, perché non trovo la soluzione, a questo punto avanziamo, visto che attendevamo la classificazione dell'impianto distruttivo, la classificazione dell'impianto distruttivo è arrivata, e nell'aprile del 2019 ci attendevamo l'evanazione del mando per la venuta concessione, siccome questo non è stato fatto, siccome per fare l'intervento interno, probabilmente del ripresso, non sono dei voti, terzo, questa è una competenza che ci compede, perché parliamo di un tratto in un quartiere che particolarmente coinvolto, è sempre stato coinvolto nell'utilizzo e anche nella funzionalità di questo intento sportivo, perché sapete che c'era anche una squadra che era arrivata a importanti livelli di basket e di volley, quindi insomma aveva un riconoscimento anche a questo caso, ma già questa esperienza è stata interrotta con questa amministrazione, questa amministrazione avrebbe in Italia anche il perone, e oltre che l'onore di un perone, tra i tante parole anche di reperire quelli che hanno in bilancio e sono necessari per ripristinare la funzionalità dell'impianto di pernaccio e per le griglie di un po' di città. Dicharazione di voto. Dicharazione di voto. Quindi sicuramente questo tema è di pertinenza della Municipale e sicuramente rappresenta una schiena di fianco perché è l'unico dell'impianto che ci è rimasto, un pianto gioco di interesse municipale, un pianto sportivo e gli altri sono tutti centri sportivi, cioè le paese di scolastica. E come dicevo nel primo intervento, noi sull'ultima sport ci siamo spesi molto per la parte di l'indirizzo l'anno scorso e l'intenzione c'era di mettere a bando la concessione che era scaduta, se non ricordo male, il 30 giugno del 2017 sulla scorta dell'attuale la giunta aveva, diciamo, dato un mandato di anche preparare il bando. Poi si è scoperto che all'interno c'erano parecchi abuso, c'erano i livelli di minimizzazionezza per cui dopo il sopralluogo si è verificato che bisognava fare un intervento molto rilevante. A quel tempo non c'erano i fondi necessari, si è atteso, poi è arrivato nel 2018 con la programmazione, nel 2018 l'abbiamo dedicata alle palestre, in parte lo stiamo facendo anche nel 2019. E' un lavoro grosso, purtroppo non dobbiamo fare delle scelte, io voglio fare tante cose, oltre ai 27 milioni in passa di lavori previsti, ma tanti tanti tanti. Non bastano sui soldi, perché come avete arrivato voi prima, se poi i soldi arrivano ma non sei in grado di spegnerli, allora è tutto il problema, allora la moderazione del viaggio, il titolo secondo, che è stata fatta, non è stata fatta a caso, è stata fatta con Isolat. E per questo ho fatto un intervento di primo positivo, diciamo un intervento ottimista, che con le risorse che abbiamo e con le organizzazioni degli uffici, 27 milioni e 800 mila di lavori di strutturare il titolo secondo, per la maggior parte, per gran parte, sulle scuole impegneranno, impegneranno i nostri uffici. E sono certo che su questa cifra il municipio potrà continuare a avere una performance nel treno degli anni passati. Io temo che aggiungere altro impegno per un lavoro così grosso, forse, forse non saremmo in grado di... Quindi, pur a malincuore, devo dire che non ritengo, se ogni ora è un'ora, ripeto, un'ora è scaduta, rivedere a rimettere, mettere in gioco questa partita in questo momento. Come, diciamo, il figlio di valutare nel corso dei altri mesi, la possibilità, seconda di come andranno anche le altre attività progettuali, abbiamo, mi ricordo, 20-25 progetti sulle scuole, tanti ingegni, altri ingegni o solitamente sono rileggiate e, in particolare, altri 4 realizzazioni di manutenzione per circa 4 milioni a volte, voglio dire, sono partieri importanti a progettazione, siccome questa non è un'attività di poco conto, ma di un certo relevanza, oggi non mi sento, non ci sentiamo, come un momento 5 stelle di impegnare, oggi non mette gli uffici a prendere in grado di, come ripeto, a malincuore, perché capisco, la necessità di richiedere in linea di massima, ora, così, vedo, diciamo, di accordo, però, ora, sarebbe veramente incritico, inserire, valutiamo nel corso dell'anno come procedono le altre, diciamo, le attività su questa tematica, per cui noi, diciamo, ci asserremo, di accordo, di attività, per cui noi, diciamo, nella nostra votazione, grazie, un complesso di attività, per cui noi, diciamo, per cui noi, vorrei provare quello che qualunque, per cui noi, grazie Presidente, perché dico ringrazione, sta, del, del consigliere, e a chi non è, perché, poi, una cosa se le devo ricordare, facciano bene, no, che ogni volta invece ci si spera, ci confermiamo sulle date, parliamo del 30 giugno del 2017, quindi che oggi mi chiede un impegno funghi e è ovvio che per questa cosa ci si arriva con la programmazione che tanto decantate. Dopodiché io oggi riassumo questa nostra decisione come per noi, oggi ad oggi, quella delle platte, perché non è una periometra, e questo è il segnale che se quel lavoro si fosse fatto insieme sull'impegno di bilancio, oggi ci vedrebbe quantomeno a dialogare sulla stessa lunghezza lunga e facciamo le priorità alle scelte della maggioranza. Si è debba deciso di prendersi così, non si è fatto a raccontare, non si ammette, ma non credo che quando il piatto sportivo c'è un carico non penso a riferimento di questo unicidio, c'è anche gli altri, ma anche questo. Ok? Se avrete parlato con qualcun altro se non mi stai restare conto che per l'anno pure o per l'anno pure o per l'anno degli altri, oggi per l'anno pure, oggi per l'anno pure, la struttura non è una priorità che non è oggi, non ha la priorità nel 2018, nel 2019, nel 2020, nel 2021, questa è più altra riguarda chiuse, solo esplicemente per tutto questo, e per l'anno democratico ovviamente potrà pure. positivo, senza scendere nella polemica, perché immagino che già sia stata evidenziata, però particolette quando io ho detto prima nell'intervento che è durato poco, che c'è un nome e cognome lo dicevano perché, come dicevo, volevo chissà dire che cosa, perché si è fatto un lavoro, un lavoro di squadra, avete fatto un lavoro di squadra, quindi avete messo dentro le cose, avete fatto di verità, ora però non c'è nessun problema a dire che non tutto può essere in corso, bene, e quindi dovete voler scettare il fatto che qualcosa vi torno in conto, perché sicuramente se uno di dottologi oppure avete fatto una volta delle scelte, quindi non mi sembra una discussione politica particolarmente strada, quindi noi non la votiamo, non vorremmo vedere l'Italia, perché crediamo è una cosa giusta, voi nonostante la cosa giusta non potete poter prendere tutto, però è importante che ci sia un istante di trovare il passaggio politico, quindi non mi sembra niente di dire, quindi giusto dire, sì è importante questa cosa di scelte, questo è grande, ma è stato inserito in questo contesto adesso, ma questa è la realtà, però quindi non mi dobbiamo fare di questo, se devo fare di scelte, quindi credo di dare un buon favore, Presidente, Presidente Sitorino, finito, votate un buon favore. Allora, andiamo avanti con le dichiarazioni di voto, ci sono scelte le dichiarazioni di voto, cosa sono scelte? Sì, le dichiarazioni di voto è per dire, per affermare che il coraggio del restante lettuale di capire che su alcuni problemi, alcuni migliori del giorno, una maggioranza che chiede, collaborazione, è giusto che sappia pure dimensionare in aula, e poi non solo quello che è una promozione individuale fatta e condurta, solo nelle, vogliono una promozione individuale, io nel gruppo misto, potete lavorare ormai che questa, questa regia del giorno, grazie. Allora, andiamo avanti con le dichiarazioni, non ne vedo, votazione, favorevoli, contrari, astenuti, e lo mi hanno approvato con 12 astenuti, essendo favorevoli, numero 11, astenuti. In così, voted essere andato, a fare!? Qu concGBT, sentiamo la dichiarazione, grazie alla dichiarazione della visita? Inol statedi, bene, calzare il giorno, delle, mi areennate io ha detto che vedo, Questa è una piazza sulla quale si è lavorato molto da parte del volontariato locale. C'è un interesse molto forte delle giovani a lungo l'asce, perché ho parlato della piazza che sta riguardo davanti all'ingresso della scuola. Era una piazza che doveva avere un senso nel 2008, ho fatto i giorni di certe piazze, che poi ha visto il ultimo uomo presenti questo bilancio, che aveva fatto le manutenzioni, e a tale modo si doveva dire se c'è stato un successivo passaggio, come l'ha detto sempre nella scossa, le scosse di bilancio, che avevano stato manutenutivo, e però persistono purtroppo le criticità. Quindi c'era una contana, una contana, un contenitore di rifiuto vario. Ragazzi stanno lì a cercare di arrivare un po', arrivare tutto un po' a con il cuore di qualche volontario, soprattutto di un nuovo residente, che mette a posto qualche cambiamento, qualche anche, qualche pulisce addirittura la stessa piazza. Io la considero un peccato, perché è l'unica piazza di quale quadrante, la considero un metodo da visita molto sgradevole per chi entra nelle scuole, che soprattutto non aiuta il contesto commerciale. La presidenza della professione, che è sempre molto attenta al commercio locale, di un attimo che si si è accorto del progressivo, della progressiva ciascura dei negozi, che trattano proprio alcune quadrante e ovviamente anche in un momento di un commercio molto più, diciamo, di facile attuazione in questo momento. E questo va però a discapito del tigione locale, ma sarebbe invece un progetto sul quale si potrebbe ulteriormente lavorare. a questo proposito, visto che ci sono dei fondi, allora, che trovano un capitolo di bilanzo per le 100 piazze, e a questo punto sarebbe utile riferire i fondi necessari per la montezza di piazza Cavaliere del Lavoro, di ripresione del controllo che esenzialmente nella punta la presenza della piazza dell'illuminazione, perché purtroppo per il 90% quel quartiere è a cuoio, e la piazza quasi completamente prenderà una rivolificazione moltissima dell'area che porta la nuova piazza, ovviamente un'inchiesta in uno spazio, una cittadinanza che tra l'altro in questo momento è l'unica che le curate e le coro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. grazie a tutti. a tutti. grazie a tutti. a tutti. 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 Grazie a tutti. 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 grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. a tutti. a tutti. i colleghi. grazie a tutti. 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 ec коман Cox. verte le mie incidenti stradali tra cui anche alcuni mortali l'ultimo dei quali prima dell'estate è importante che di questo municipio si faccia si faccia carico su questo chiederei anche un chiarimento perché nel nostro bilancio sono stanziate 976 mila euro con la dicitura di interventi per la moderazione del traffico e per la sicurezza della circolazione con realizzazione di dispositivi solvopedoni incroci rialzati e perversamente rialzati nel territorio del settimo municipio che è esattamente quello che chiede questo ordine del giorno quindi vorremmo avere l'assicurazione che queste strade così come richieste da tempo dai cittadini di quel quadrante vengano inserite all'interno degli interventi che con questi 976 mila euro intendiamo fare quindi l'ordine del giorno chiede di mettere in priorità queste strade nell'allocazione di questi fondi per gli attraversamenti pedonali e la realizzazione di tossi e di spasori di velocità in via etruria 10 anni grazie dichiarazione di voto dichiarazione di voto di un'intervento di un'intervento di una legge ma anche questo è un'intervento un'intervento un po' santissimo invece un po' che si tratta di riferimento a una tua barca esatto che c'è un po' un progetto stradale di soffia di gloria che prevede quindi la sistemazione della strada la propria quella quella che poi ha proposto prima quindi nel frattamento di attraversare la strada e la stessa sequenza quindi un apporto di quella che non abbiamo stanziato. Ovviamente noi abbiamo anche la direttiva o la nota del Dipartimento Mobilità insieme ai vittimi che specificano quali sono le situazioni dove si possono mettere le attività e le alzate e in base a quella che abbiamo fatto diversi interventi nel municipio dove li abbiamo installati. Quindi questa intenzione è già a un punto, questo progetto è stato dedicato già in campo e quindi l'intenzione è quella di intervenire subiettoria e ovviamente poi verificare anche il mio dimiso che è un esempio in generale e per intervenire dove è possibile che è confinato anche con le prescrizioni del dipartimento mobilità e quindi facciamo l'ordine del giorno con una promessa insomma che questo progetto sarà un'attività che è proprio fatto. Ok, grazie. 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 e la scuola è stata un'altra parte di un'altra parte, un'altra parte di 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 un'altra parte che è stata un'altra parte di un'altra parte. Io penso io che ho detto che comunque la notizia contrastante, quindi preferirebbe che io andassi non so che il sguardo, potremmo vedere un intervento anche per gli alunni per i bambini della scuola di vicine e il nome di torni, una situazione che è grave, grave disagio, per esempio, obbiettivo e compromiso del cuore con me. i tuoi ammigliare, non cercevano votazione se vuole, buttare, ad minuto il cuore, e niente, nessuno si ti dici a casa degli alunni, tutto i ricorso che salgo l'uomo, Grazie. e l'ossi nato per me, se ti avrò. Grazie, questo mi è molto personalizzato perché se poi effettivamente le cose si fanno, gli ordini del giorno, le proposte vengono bocciate, quando poi invece ci dite che le porte sono a mente che dobbiamo lavorare insieme, proprio per lavorare insieme si potrebbe dimostrare di andare nella stessa direzione, ma è tutto superato, per intanto tutte le cose non si vedono, vado alla presentazione dell'ordine del giorno numero quindi mi scuola con questa professione, che è un tema molto importante e che abbiamo condiviso con alcuni consiglieri dell'alloggiata, perché riguarda la riqualificazione del centro orsiato di relazione delle soluzioni, come sapete per quanto riguarda la riqualificazione del centro orsiato di relazione del centro orsiato di relazione ci sono anni di battaglia perché anche su questo argomento, diciamo, c'è stato un lavoro delle associazioni del centro anziani, dei convidati e di alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione di questo municipio l'idea tre anni fa era quella di chiudere questi centri anziani e di mandare tutti, diciamo, dislocarli in altri centri anziani invece la vitalità di quel pezzo di municipio e il fatto che sia una delle zone con la più alta concentrazione di popolazione anziana hanno convinto anche questa giunta invece ad andare avanti per le riqualificazioni di quello che va lì e, dicevo, dopo anni di battaglia nel bilancio 2019 eravamo arrivati tutti insieme ad ottenere un grandissimo risultato perché nel bilancio 2019 erano previsti 50 mila euro per la tracettazione del nuovo centro anziani e 450 mila euro per la realizzazione dei lavori. L'ultima volta in cui abbiamo parlato pubblicamente di questa questione, la ricorderete, è stata durante la discussione dell'assestamento di bilancio a luglio e in alcune commissioni che abbiamo fatto in Campidoglio fino addirittura al 6 agosto prima della chiusura estiva proprio perché avevamo paura e denunciavamo il fatto che se la gara per la progettazione non fosse stata esplitata entro la fine dell'anno e quindi se anche questi 450 mila euro per i lavori non fossero stati impegnati entro la fine del 2019 questi soldi sarebbero stati persi. Dal Dipartimento ci dicevano che non ci dovevamo preoccupare che comunque sarebbero stati ripresentati e riproviare finanziati nel bilancio 2020 invece come avrete potuto vedere nel bilancio 2020 nella parte dedicata agli investimenti e alle opere pubbliche sono spariti i 450 mila euro dedicati ai lavori di qualificazione del centro anziani quindi diciamo una visione che ci hanno fatto chiedere solamente virtualmente sul bilancio per un anno soprattutto il 2019 di che oggi quando ci avvicinavamo alla possibilità di realizzare quei lavori vengono eliminati dal Dipartimento nel bilancio del Comune di Roma. Io so che voi siete d'accordo a riporificare quel centro anziani e anche la Presidente del Municipio si è spesa da questo punto di vista per chiedere al Dipartimento anche alla Sindaca Raggi che invece non sa niente di questa questione perché ancora oggi, quando Rivele ha fatto una domanda sul centro anziani di Leferelli risponde, ah ma io sapevo che ce ne stavamo occupando come se dovesse essere qualcuno diverso da lei ad occuparsene o proprio perché su questo c'è stata sempre una convergenza di intenti per maggioranza e opposizione e questi soldi oggi sono stati eliminati dal bilancio del Comune di Roma ma io penso che debba arrivare forte e chiaro da parte di tutta la maggioranza tutto il Consiglio di questo municipio e maggioranza e opposizione è un'indicazione chiara alla Sindaca e all'Aggiunta che questi soldi vengano ripristinati perché in questo modo, seppure riusciranno ad assegnare la cara per la progettazione entro la fine del 2019, comunque che tutto l'anno 2020 noi non avremo questi fondi a disposizione quindi dovremmo aspettare e sperare che nel bilancio del 2021 potremo giocare una battaglia per ripristinare questi fondi vedete conto che è un vero peccato perché questi fondi c'erano e da un giorno all'altro sono stati eliminati in bilancio senza chiedere nulla al nostro territorio da questo punto di vista però voglio anche dirvi quando veniamo sollecitati, come è stato fatto nella discussione della delibera stamattina vado a disporci, come è stato detto stamattina ad impegnare i consiglieri e i capitalini che su questo c'è bisogno però ci auguriamo anche di un po' di onestà intellettuale perché come sapete su questa questione, sul progetto di riqualificazione del Centro Anziani è stato presentato un emendamento lo scorso anno anche su questo e la maggioranza del Movimento Ciutostelli in Aula Capitolina l'ho appoggiato non ritenendo evidentemente una priorità abbiamo presentato diverse interrogazioni anche qui e c'è stato risposto che non era una questione di competenza di questo municipio io però vorrei che su questo il Consiglio del settimo municipio si esprimisse perché abbiamo ricevuto tante volte i cittadini, i comitati, i presidenti la presidente del Centro Anziani gli anziani che in questo momento non avendo a disposizione quello spazio stanno chiusi dentro le loro case e visto che condivido la visione rispetto al fatto che non ci servono altri centri commerciali o altri luoghi in cui le persone si sentono alienate ma ci servono luoghi di aggregazione chiudere quei Centro Anziani indicare la possibilità e la speranza a tanti anziani di quel territorio che quel Centro Anziani venga rivolificato non sta producendo il fatto che nel frattempo frequentano altri luoghi sta producendo semplicemente il fatto che restano da soli nelle loro case allora su questo io vi chiedo di dare un segnale e una risposta di tipo politica rispetto a quelle che sono le priorità di questo Consiglio e quindi di dare un segnale che non modificherà questa delibera che non aggiungerà dal settimo municipio queste risorse in bilancio ma che arriva forte e chiaro in Campidoglio il fatto che il Centro Anziani di Villa Firelli è un tema che riguarda tutto il Consiglio del settimo municipio e che il lavoro che insieme abbiamo fatto durante tutto quest'anno oggi semplicemente per seguire un ordine di scuderia non viene buttato al vento vi ringrazio mentre ci sono andato che sono andato e che per l'anno e che erano anche un giudice e non le frezano e quindi è questa prima ora e questo è stato è una storia e non ci può avere delle maniere qualità e così, perché questa storia è una storia di valanti a tempo, forse i parole sono anche super, ma oggi è talmente evidente, è la problematica che esiste in quella del quadrante, in quella vita da 200 anziani, per questi sono molti che non sono mai, per piccolette c'erano spesi e adesso giusto più di un giorno, insomma diventa un po' una basaletta, come diceva un mio collega, sempre li stiamo a giustirsi a parte, quindi a volte li avevo, e poi li prendo anche la simpatia dell'altro collega che non solo li dà il suo altro, ma anche a me d'oggi e poi sono anche più simpatico, per senso che è rotto, cioè io come se fossi odio odio, odio mi stancherei di sentire sempre il senso, come sentirei sì, ma mi hanno tutti i testi bassi, no, e ci vediamo una volta a casa questo risultato, perché comunque sia, è veramente una cosa che tra di chi la chiesa, anche la chiesa, anche la chiesa, c'è pure anche una presa in giro che a noi tutti c'è di un meccanismo che è dipartimentale, anche l'altro, ma come dicevamo prima, quando c'è l'assessore di dipartimenti, spesso e volentieri sono un problema di contro amministrativo o politico, quindi appena c'è qualcosa che non dovrà, nessuno fa nulla da poter, comunque, andare avanti o prendersi le due responsabilità, anche perché ci sono anche momenti diversi, c'è tra un scenario di scelte, c'è un momento diverso, quindi non a caso le responsabilità sono diverse, ma poi è facile, e non tutti hanno il coraggio di prendersi le sue responsabilità, non usciamo diversi le persone in gamba, ne abbiamo due nel nostro municipio, direttore, che sa prendersi le sue responsabilità, però neanche i municipi, io e altri dipartimenti dicenti, provano a fuma meno, e si nascondono dietro questo atto di dire, ma io non lo so, adesso non conosco il film, però qua parliamo cosa è, cioè politicamente ci pesa tutti, pesa, anche solo la seguita, pesa, se lo mette a due viene a capire che è pesa, è la sua vita, noi abbiamo dovuto, come oggi Dio, abbiamo fatto più di minuti davanti, io sono stato chiamato anche da un orario del Pio, gente dà anche a capire da lì, perché ma tu non aveva il telefono, perché il telefono lo conosce, senti, ma, pesa, ma tu hai attenzione, come il dipartimento, ed ad amore, sì, le applicavo tutto, è possibile, certo però, c'è la consiglia Piondo nella sua esposizione, tu hai un paio di, di tasti, non ha chiamato, prendete l'Italia di febrivole, però non ha chiamato, dicendo al comune, no, non lo può dicerlo, se è la colpa del saldiamo al comune, io vado anche di negoziare al comune di addigli, di attorciare con un motivo di attività, in questo senso, l'altro lo fanno, e l'altro lo guardiamo per il 29 lì, ma le ammette a prendere con un gigante, capisco che non trovate una linea comune, capisco che ci stanno degli andamenti che sono da letto cardiogramma, capisco, però, vado a trovare almeno 10, 12, 15, che sono favorevoli, non dico tutti a 29, con l'opposizione, si chiude, si chiude, cambiate gli assessori al comune, come se fosse, capito, l'acqua brava, prendevo con un cuore, era risolto, chiaro, però è una sfondo, è veramente una sfondo che ho dal lì alle pazioni, mi aspetta, non mi sento, non mi sento, mi senti, non mi senti, non mi sento, sono violata e... allora, noi l'ocento di persone le azioni, veramente sono decisivamente da solo per lo dimostrata in questi tre anni, facendovi tutte le circolazioni, i miei altri anni, forse di questo individuo, che possiamo dire a rispettare tutti insieme, sì tutti insieme, ma forse noi, questa giunta, questa voce, è tutto insieme, tanto è vero che il rapporto come si ricevono i partiti precedenti dal 2008 al 2016 e riscordi, ma sceglie, ma sceglie nel 2016, in questa consigliatura abbiamo fatto di tutto per mettere nei fondi che erano stati distrutti negli otto anni precedenti, per mettere i fondi per la progettazione prima fase e per la ricostruzione seconda fase, che entrambe queste fasi non sono di competenza, non sono del municipio, però la Presidente ha fatto note, la Presidente ha scritto, l'abbiamo trattato in una commissione ambiente, l'abbiamo trattato in diverse commissioni municipali, lavori pubblici, l'abbiamo trattata in commissioni congiunti ambiente, lavori pubblici, l'abbiamo trattata in ultima commissione controllo garanzia trasparenza, capitolina, grazie al Presidente Valmundo, che hanno avuto sempre assicurazioni, soprattutto nelle ultime, che i fondi che stavano per essere pensi nel senso di una scadenza non erano più impegnabili, sarebbero stati rimessi perché non erano più impegnabili, per il semplice fatto che sono stati fatti errori ritardi a livello dipartimentale, per cui adesso ci troviamo al fine del 2019, però se avete, scusate, se ve lo ricordo, con una commissione che deve aggiudicare dentro il 31 dicembre la progettazione è ancora come stata giudicata, ma dovrà giustamente, come chiede, questo ordine del giorno, trovarsi punti pronti nel 2020 per poter procedere con le fasi successive. Ci avevano assicurato che il Dipartimento, anzi la direzione competente del Dipartimento, avrebbe provveduto a spostare, in generale abbiamo stati collegati nel 2020, due minuti e 36 secondi, Presidente, mattina lo prendono i 20 secondi per finire, quindi è necessario che questo ordine del giorno sia fatto in Assemblea Capitolina, perché purtroppo questo ordine del giorno non è pertinente come l'ordine del lavoro odierno di questo Consiglio Unicipale, che invece dovrà essere fatto di tutto, in pieno Assemblea Capitolina, non in assestamento di bilancio futuro, ma immediatamente, certo facciamo voi i nostri, voi vostri, in modo tale che a un'unanimità si possa approvare questa cosa, perché voglio grazie, per questo motivo noi dobbiamo votare con te, per effetti. in questo caso, in questo caso, c'è un po' di scelte, ci sono un po' di scelte, mi sono ricordo, per esempio, e anche dei superciori di Lottarelli Giardi degli anni 2012, 2013, il quotidiano dell'anima, del quale milieu di scelte, dell'anima, dell'acqua di disciplina, della possibilità di dare nuovamente sistemazioni agli anziani di quel territorio, come hanno detto qualsiasi nemmeno preceduto, sono numerosissimi, diciamo che toccano il 30% del nostro municidio, ma io penso ai lineati di ammelli, ciò è un intorno che ha incasciato al 28%, perciò io devo rispetto a questo, ma anche in mancata, come ho avuto a pulire la forte da parte della maggioranza capitolina, che che non ha successo ai miei dipartimenti, non ho sento a preso, ciò mi serve, sono problemi importanti, bisogna dare risposte importanti, allora la politica deve scendicare con la forza, deve condizionare, deve apportarsi bene con i dipartimenti, io penso che un discorso del Presidente deve portare per me, quando torniamo a dire, quando abbiamo parlato del Secretario Generale, che ci ha dato quelle indigazioni, anche rispetto a questo, non c'è stato un promulgimento forte da parte della politica, rispetto a questo, perché non è più direttore generale, se non è così, e se, comunque, se la politica è forte, che però ha avuto sotto anche con la segra della generale, che ciò è mancato questo, perchè io penso di forte volte molto pulire, e che più ciò siamo in giro, un gioco tutti gli anziani che io qualche volta sono andato all'inizio, e mi sono andato all'inizio, spesso quando stavano io in una, in un bel centro, perché se devi aggare l'equivalente, in un po' un campo di pote, tutto altro, adesso la gente adesso sta in una sensazione veramente pienosa, e io ho chiaramente molto pienosa, cioè spesso questo per mano, su una coscienza, ma grazie a chi ha due metterie, io credo che me lo faccio senza un'impegno forte corinico che invece non ci sono mai un'unica vita, come funziona le vochiamo senza altro gioco. Mi grazie di voto, si è bella la chan-chan, si si. Allocare risorse economiche per questo intervento che veramente è una cosa che non è possibile più da ascoltare, non ha perché il municipio non può allocare delle risorse, se proprio è una mossa strategica questa, è vero che se qualcuno ci sono i soldi per fare la progettazione, ma allocare 450 mila euro, tra parezza il progetto c'era ma dovevamo fare solo le relazioni zoolottiche, mi sembra a non trovare un modo per trovare camigli o raggiri per tirerlo con qualcosa che è inutile mettiamo le scuse, non siamo d'accordo, sì, una mossa strategica era quella di mettere delle risorse nostre in bilancio e finirla con questa storia. Il coraggio che ho avuto all'inizio della consigliatura su delle opere che ha fatto la Presidente Lozzi, lo dovremmo dimostrare, questi non possono più aspettare gli anziani di un centro così popoloso come Villa Fiorelle, e l'ha detto prima il consigliere Giuliano, lo vengono i cittadini, ti vengono qua, si sordescono tutti gli eventi, ma alla fine, qualche volta diciamo di sì, no, non lo chiamano una piccola somma per trarre, ma molto macco visto che la Presidente Lozzi vorrebbe fare il sindaco di questa grande città, no, non lo chiamano, no, non è vero, non è vero, non è vero, non si vuole avere, ma non lo so se è vero, ma gli spai che arrivano messaggi con bastanti, si trova ragione, con una sindaca, rimaniamo a sordare, siamo a sordere, siamo a sordere, ma siamo a sordere, ma Presidente, così svegliamo un po' i consigliari che siamo addormiti, che allora nulla osta per inserire allocare 450 mila euro in un bilancio che avrà sempre i 27 milioni di euro, non si può, che non si può per i consiglieri di maggioranza, e avete fatto già la dichiarazione di voto per voi, per voi dovete accontentare di essere richiamati, come gli richiamati, come sempre lì, ma non è che non abbiamo i soldi, e noi possiamo dare uno smacco questa volta, caro Lago Gruppo, è vero, possiamo dare uno smacco facendo i cifranziani in legno ramellare, come già fatto il progetto, ci hanno già preso in giro una volta, dicendo che non era valida la relazione geologica, spenderanno 50 mila euro per il progetto, che forse era inutile, abbiamo scoperto che ci hanno un ufficio, forse l'abbiamo scaduto, e che stanno latitando da questo, da questo, se fosse un minore affinito, cara Presidente, per dire, come dire, non è che questo emendamento è giusto, e sa cosa, un ringrazio la consigliera Francesca Piondo, che è il gruppo del PD, che lo portano l'attenzione, e credi questa maggioranza, e non è stavente, come diceva Giuliani, noi ci moltifichiamo a stare forse in chiaro di voto, no, sì, ci asseriamo, non abbiamo partecipato a noi, a direttura a mano, però poi la mano, la macchina lo dobbiamo dare, grazie, arrivederci. Sì, mi sembra che c'era consigliere qua. Un consigliere, un naggiuto, un consigliere, e io il consigliere sarà saspsingere il telefono, perché no, sì, bene, no, 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 Grazie a tutti. Siamo oggi d'accordo che il dibattimento è sfogliato, dobbiamo anche essere onesti su determinate questioni, ovvero il centro anziano di Mila Friuli non interessa a questo municipio, ma non interessa a Giunta Capitolina perché non è mai stato inserito tra le priorità, come noi abbiamo chiesto che fosse a Giunta Capitolina, non è mai stato inserito tra le priorità da inserire negli investimenti del bilancio e soprattutto dato che però sul lavoro che fanno anche i dipartimenti ci sono degli obiettivi da raggiungere da parte dei dirigenti, dei funzionali, allora posso questo, gli assessori del Comune di Roma, adesso è diventato anche assessore delle politiche sociali, Veronica Mammi che questo tema lo dovrebbe conoscere e che però su questa questione non ha ancora detto una parola e io spero che nella discussione del bilancio del Comune di Roma si spenderà per questo territorio, non dimenticando una battaglia che viene dal suo municipio di provenienza. Non è mai stata data come priorità, un assessore che tiene a determinate cose va negli uffici del Dipartimento al posto nostro perché in questi anni ci siamo andati noi senza essere neanche ricevuti ufficialmente, ma dovendoci presentare di straforo agli uffici del Dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Roma perché nessun assessore Capitolino ci ha mai voluto accompagnare o precedere. Allora questa è una verità che noi ci dobbiamo dire e ci dobbiamo dire che siamo di fronte a fatto a raggiungere il Consigliere Tosotti che finalmente questi soldi erano stati rimessi in bilancio, ma così come erano stati rimessi il fatto che oggi siano torti sotto agli occhi di tutti e che noi non possiamo fare niente rispetto a questo, è un'ingiustizia incredibile che sta colpendo gli anziani di quel territorio e in qualche modo il lavoro di tutti noi perché siamo impotenti rispetto a questo. Io veramente vi chiedo e ringrazio anche gli altri colleghi di opposizione che su questo hanno capito qual è l'intento di questo ordine del giorno, perché l'intento di questo ordine del giorno è dire che il Consiglio del Settimo Municipio rispetto a questa ingiustizia, a questo essere così scavalcati e a togliere così tanti sondi per un progetto così importante, senza che nessuno dal Capitolio dica niente, chieda neanche scusa, è una vergogna per tutto il nostro territorio. Il fatto che noi oggi votiamo questo ordine del giorno insieme ci porta alla discussione in aula con la forza di dire che è un territorio interno che lo chiede, non semplicemente un consigliere di maggioranza o un opposizione che dovrà poi fare un lavoro in Assemblea Capitolina. Se lo votiamo tutti insieme, io veramente ve lo chiedo oggi, se lo votiamo tutti insieme diamo un segnale all'Assemblea Capitolina nel suo complesso, da istituzione a istituzione, per dire che questa era e deve rimanere una priorità del Settimo Municipio, grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Non credo. Allora, andiamo in posizione purevoli, lontani, 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 e lontani, Sì, 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 sì. un necessario un problema di rispetto necessario e facciamo la cabella nuova basta 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 andiamo avanti 3 17 vediamo se c'è la sedice più 16 siamo all'operante sembra di spiegare l'ordine del giorno numero 16 riguarda i centri di accoglianza notturni nel nostro per quella che ogni anno viene definita emergenza freddo per i senso fissi di mora che in questo periodo del giorno abbiamo messo trappi le solette perché questa città si è anche stufata di parlare di emergenza come se ogni anno a novembre a marzo non arrivasse l'inverno eppure troppe persone in questa città continuano a dormire per strada nella città di Roma nello scorso inverno tra novembre 2018 e febbraio 2019 sono morte per 7 o 15 persone una situazione insostenibile vergognosa per la capitale d'Italia a sede del Vaticano e potrei continuare ancora nel nostro bilancio per assistenza per persone senza fissa di mora interventi per categorie di disagio sociale sono stanziati ad oggi solamente 9.400 euro che come capite non possono bastare neanche per due persone per ospitare due persone in dei centri municipali notturni per l'inverno 2019 questo ordine del giorno chiede alla Presidente del Municipio questa aggiunta di farsi carico di questo tema e di aumentare i fondi previsti sull'assistenza per persone senza fissa di mora che oggi appunto soldi ammontano solamente a 9.000 euro grazie dichiarazione di voto non ci sono dichiarazione di voto consigliere? ci voto grazie con grazie e grazie alleemerze come consiglieri questa proposta presentata come vortire del giorno affianzo è depositata anche come mozione non è una novità presentata già all'inizio a gennaio 2019 dal Partire dell'Evocratica Questa proposta perviene senza dare alcun punto del percorso realizzato sul tema in commissione politica e sociale Già in più occasioni, l'unica punto è che pur condividendo il fine non sia possibile procedere in quanto non abbiamo strutture all'interno del nostro municipio Talmente grandi e attrezzate ad ospitare un centro di questo tipo Perché come spiegare in commissione, in base alla uruguaglia vincente richiede degli standard minimi in termini di misure pro capite per gli ospiti Sottivisione dei servizi per genere e altri requisiti che sono la struttura di una certa portata Può garantire per quanto riguarda le persone in condizione di marginalità Oltre a quegli importi che ha citato la collega Esistono già dei servizi di assistenza specifici per questo genere di tragica Che vengono regolarmente offerti da bambini in sezione centrale Oltre alla sala operativa sociale che abbiamo avuto modo anche di conoscere in commissione Esistono inoltre i cosiddetti offici di marginalità estrema con assistenti sociali delicate Riferisco sempre a livello centrale e quindi al dipartimento Quindi pur apprezzando e condividendolo Ovviamente questa tematica non possiamo accettare questo ordine del giorno E pertanto ci passeremo Prendiamo l'impegno di portare di nuovo in tempi con l'argomento in commissione Così da valutare eventuali azioni propositive nei confronti dell'assemblea capitolina L'unica attività in questo senso Perché l'unica che può decidere di giorni Per partire nelle azioni come ha già fatto Negli anni precedenti Su tutto il territorio capitolino E non solo sul nostro municipio Mi permetto di cogliere l'occasione per affrontare tutti Sulla piano streppo comunale Ricordatevi che questo genere di interventi viene programmato Il risorso è appena costano presi prima rispetto all'inverno Quindi parlando in questo momento è sicuramente un cuoridermine E posso anticipare che fanno riconfermate le unità di strada di urne Le quali operano da metà dicembre tra le 12 e mezzanotte Quindi estendendo la copertura dell'orario notturno Invece che dalle 8 alle 20 Per affianccare le due unità prettamente notturne Inoltre gli agi dei fiumi E dei fiumi che sono stati individuati come I ruoli più pericolosi e necessari E pericolosi necessari o maggiore attenzione Saranno monitorati più che scordatamente Avremo quindi da subito 65 posti in più Per l'accoglienza notturno H24 e H15 E 50 posti in più in accoglienza di urne Per 9 ore e 4 ore H24 di valgine di servizi differenti Inoltre, per il suo accordo con la Gari da Salimandrano E di offrire ulteriori 20 posti rispetto a quelli già disponibili Quindi allo stato attuale Per questa stagione infernale Si è rimangato, almeno per il momento Perché ho avuto l'assicurazione che ci saranno ulteriori interventi Su questo tema, complessivamente quindi offriamo 450 posti Alle persone senza fissa dimora E a chiunque dove sarebbe necessità Di un posto caldo e di assistenza In aggiunta a quello che è il ciclo Di servizi offerti relativi all'accoglienza ordinaria Grazie, grazie Un'altra dichiarazione di voto Giuliano? Grazie Ora, avevo detto prima che si cominciava a scherzeggiare E questo è un caso perché Perché non so adesso cosa aveva scritto il collega Sul tablet però mi ha convinto Perché non so quello che c'è Ma come l'ha detto non è convinto Nel senso di partire del problema che viene solucitato Avevo già un'intuizione ovviamente Che il pianofetto venga fatto da voi E mi dà come sempre è stato fatto E quindi non sapevo come poi Veniva calato giù il territorio Come ha detto lei E ripeto nudi Volemmo guardare le tracce E lei legge cose molto belle Quindi non debba essere utile Che se ce l'ho io per altri Mettiamo l'argomento E ce l'ho in tutto quello che è E io ho detto Automaticamente con l'informazione Quindi non è demagogia Dire no In questo caso c'è E' giusto per portare l'argomento Però in questo caso Siccome veramente Parte dal cedro E viene calato giù il territorio O se queste zone in Italia Tutto quanto c'è Comunque ho bisogno diciamo Direzione o no Per piccolare Perché c'è in realtà diversa Però in questo caso Il pendiglio Dove sappiamo essere Abbastanza Come si dice Avesso a stare sul pezzo Lento tutto Anche questo Come argomento Perché non conosce niente Il pendiglio Può essere sempre tutte le parti Però stavolta Per l'Italia Prima Non ci siamo messi d'accordo Abbiamo votato Tante noce Come non facciamo così Non è il caso Che sono cose Che non si vediamo Sia da in maggioranza E con l'opposizione No Però questo La pensiamo un po' perestruosa Perché è un discorso La parte d'aceto Quindi mettiamo La parte d'aceto Il nostro principio Visto tutto il suo fatto Quindi Quindi Certificato C'è già E' il suo piede Ci sembra Soprattutto Vado a provare questo In fratelli Sastiera C'è questa cosa Allora Come stai a dichiarazione? Come stai a dichiarazione? Come stai aavedre con te? Beh Bispiace Diciamo Non trovare un protagonismo Da parte delle Forze di maggioranza Che invece fanno Del Concierto di decentramento Poi uno degli elementi fondamentali perché invece ancora persisiste su questo tema e ha fatto bene ricordarlo il Presidente della Commissione Politiche Sociali quando l'Europa e il Partito Democratico a gennaio del 2019 presentò un atto per due guardie di ragioni uno perché ci trovavamo di quanto un diritto eccezionale e lo stesso comune di Roma ammise che essere in ritardo e in difficoltà rispetto all'avventura dei luoghi dei posti per il servizio di ora e soprattutto è incontretto a riaprire un'uggenza a questa generale metropolitana con le disegnate più cosciute ma a quel tempo si chiede siccome è stato fatto in altri municipi per esempio un municipio terzo che avrà avuto poco in bilancio quotidiano e giuriano però ha deciso di fare un mondo e di mettere a disposizione a partire non dalla foto ma non so se lo attacca lo s'organizza la logista pagna poi che ha usato il mondo e potenziato quello che è vero a frutto del film che non è che legge, che non è che è portato più bene perché abbiamo visto invece quanto sono un po' colpe posti normali in quel senso quindi se ci dovremmo ricordare le infezioni in quest'anno abbiamo con una svolatura allora il minimo ci vi do c'è dire da lei invece purtroppo siccome registriamo continuamente dei luoggini faccio trovare i luoggini trovati però c'è un'opportunità che ha fatto bene per sempre e poi abbiamo fatto questa fastidia per altri luoggini tra pochi mesi intoniamo una stazione invernale che non avremo non avremo quello che ci ha sto messo a distruzione che non sappiamo se sarà sufficiente, che numeri alla mano e non so dire se sarà sufficiente o meno non ci deve privare il fatto di poter investire ulteriormente certamente di portare una vostra risposta che sia quella più attività possibile ma non è detto che questo detto io non l'ho interrotto come l'avrete avrei stato ma si è recuperato io verissimo verissimo era gennaio ma voi eravate già esprezzi unitariamente quindi peraltro siete po' erenti in questo detto so sarebbe come ci è successo che non si diventano distruzioni che sono molti mobili che sono di proprietà tipo patrimonio comunale ma si può fare tutto ma quando vedete tutti i quali fatti sono vecchi a questo punto sono una nuova necessità in alto e non esce ma era una buona pratica che si poteva prosterire e ragionare perché? era questa la motivazione di in questo caso della normativa vigente è un unico terreno e in priorità all'arrogazione tutti i necessari per realizzare le decisioni e poi se questo non è avvenuto ci affidiamo anche quest'anno alla buona riuscita delle trovate dell'amministrazione centrale sperando di non poterci ritrovare tra qualche mese la spermatica questa volta l'abbiamo presa in un'altra maniera stiamo sempre costretti a mentirare i problemi invece che affrontarli in prima o in terza è un peccato perché qui pensavo di trovare veramente un esitio diciamo che marciava insieme e una richiesta in cui di descensamento che vise di applicare invece ovviamente disattendente quindi saremo ovviamente a favore il brandHyster Quante erano? Mutazione movimenti puntani aztenuti e anche qui si 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 Siamo all'ordine del giorno 17 riguarda la riqualificazione di Villa Lazzaroni e in questo caso come abbiamo già discusso per il centroanziale di Villa Fiorelli nel bilancio 2019 forse questo potrà confermarlo l'assessore e poi magari a marchio di spiegarci perché visto che adesso non può intervenire però per la riqualificazione di Villa Lazzaroni nel bilancio 2019 erano stanziati di fondi che nell'anno 2020 invece non sono riconfermati come sapete Villa Lazzaroni non solo è stata una sede ed è una sede del nostro municipio ma anche una villa storica della nostra città contiene al centerno un patrimonio almoreo prezioso che è importante preservare ma quotidianamente a tutti noi arrivano segnalazioni da parte dei cittadini delle associazioni del quartiere che ci segnalano allagamenti per avere in tanti telegazione, fontane non funzionanti la presenza di siringhi anche vicino all'area dove giocano i bambini e il servizio di chiusura notturna che non sempre viene garantito proprio perché anche in questo caso guardando il bilancio siamo ai nostri subiti del fatto che questi fondi che erano stati previsti nello scorso anno sono stati magicamente tolti e quindi non più garantiti ad una del patrimonio storico del nostro municipio questo ordine del giorno chiede di attivare tutti i percorsi possibili affinché queste risorse invece vengano garantite e confermate anche nell'ora di 2020, grazie grazie un po' grazie l'auto grazie un po' Sì, io presentai già un'intervocazione rispetto a questo, ma ben due anni fa e rispetto a quella internazione che ho presentato, non c'è stata, non c'è stata, non c'è stata, non c'è stata, non c'è stata. sono statini che ci sono denunci, sono sei anche fatte, per questo raccomandato il quartiere a due uomini che chiede con forza la qualificazione di Villa Lazzari, perciò voglio dire che non è. Io penso che sia scandaloso avere una villa di libera, una sede del municipio all'interno, una sede 22X9, io per tanti anni ho fatto un litro sia stata seduta in comissione lì, la sede 2X9, che viene alla zona 2X9, io ho proposto la sede di presidenza, ancora c'era scritta, non un municipio, non un municipio, perché voglio dire, però, però, mi dobbiamo dare spagare degli ecologisti di serenità, proprio questo, prese presidente questa, inizia qualche cosa che io penso che sia da modificare, comunque poi a mente un discorso che senza altro che deve essere ugualificato la biologia un attento assente da municinica, con tu stai un attento è la sua, in un certo senzalto un impegno pulirio fatto che sia un messo in questa regione, una grande, un economico, un'unità in questo direzione. non è un'unica vita non è un'unica vita non è un'unica vita non è un'unica vita che viene portata questo giorno in quanto, come dicevano anche il collega Toti è una zona veramente che considera questa è una battaglia di bambiera vista la bellezza, la potenzialità di quella villa mi sembra veramente paradossale ho considerato anche ciò che quella villa subito negli ultimi mesi come molti di voi pensano e anche degli atti vandalici per quanto riguarda l'area cani dell'area giochi inoltre tanti dei cittadini tanti delle famiglie che lo frequentano con un luogo tanti ricreativo la domenica insomma, io penso che tanti municipi si impegnano uno spazio come via Lazzaroni mi hanno detto insomma che come avete ripeto in una ferrari di mettereci la pensiera della 500 nel senso che la potenzialità che si potrebbe ottenere da quella villa e i servizi quella villa potrebbe ottenere senza di un'altra d'avvocata cortezza e di un'altra manutenzione che viene fatta e ha detto una cosa minapolante per questa ragione ovviamente io lo terrò spiegando una riqualificazione necessaria anche visto che gli speciali episodi ci sono stati sempre un lavoraggio io ho anche fatto lì un video e ho anche fatto una piccola manifestazione con alcuni cittadini perché sia aperta per un lavoraggio una centinaia da Lazzaroni vicino alla zona delle Fontane tra un altro Fontane chiusa da 5 anni quindi anche da questo punto di vista noi dobbiamo trovare una soluzione per questa villa perché se stiamo entrando un servizio pubblico per i cittadini non possiamo che curare quella villa grazie per la maggior occasione ci siamo trovati a parlare della situazione della villa per quanto riguarda e per quanto ci riguarda come forza polenica ovviamente siamo sicuramente in linea con quelli che sono entrati di quanto è narrativa nell'atto, però qui noi ci troviamo a dover comunque parlare di quello che è il bilancio municipale, pertanto necessariamente questa richiesta verrà rispinta. Voglio però comunque ricordare che nell'ambito del titolo secondo, nel presente bilancio, sono comunque presenti più di un milione e mezzo di euro relativi proprio alla sede municipale che si trova in linea di Fortisciocca, quindi a frente a parte appunto di Villa Nanzaroni. Per quanto è nostra possibilità, noi sin dall'inizio abbiamo cercato di fare quanto più possibile e anche da conto con i soggetti dell'amministrazione che sono incaricati di questa, sono diretti, sono competenti della Villa. Siamo arrivati ovviamente ad un punto della consigliatura per cui necessariamente, come già stato detto in altre occasioni, forse è giusto rimettere un pochino le cose sulle quali tutti noi vogliamo mettere delle cose in chiaro, comunque cercare di portare alla risoluzione visto che si tratta di anni e i territori ci chiedono determinate risposte, quindi tutti noi ci troviamo con pesiti che sono anche magari di molto antecedenti al nostro tempo a questo consiglio, pertanto io mi permetto di chiedere ai colleghi poi insomma di valutare insieme in Commissione Ambiente di fare un atto congiunto, quindi comunque il nostro Movimento 5 Stelle voterà contrario a questo, grazie. Grazie Presidente, ho fatto bene il Presidente della Commissione Ambiente di ricordare che in bilancio ci stanno 1.300.000 e 1.900.000, più di risorse per eseguire la progettazione dell'adeguamento antincendio della sede municipale di Villa Nazionale, l'adeguamento antincendio sul decore sulla villa non c'entra nulla. Allora, io ricordo che lì c'è un teatro inaugurato, ormai fa spettacoli ogni sera perché abbiamo visto su Facebook l'inaugurazione di questo teatro, ricordo una cosa che dovevamo guardare insieme con la stessa funzione al reato di Villa Nazionale. Abbiamo visto la rappresentazione in piedi. Allora questa è la storia di Villa Nazionale che mi preme molto e vengo lì da quel municipio, conosce ogni angolo, ogni pietra che respira, dopo altrettanto perché ogni volta che facevamo un intervento era gradevole pensare che una villa così di tutti, di tutte le forze politiche potesse essere recuperata. Infatti, io vorrei suggerire all'assessore di fare un'indagine puntuale. Guardi, è la seconda volta che ci ho battuto il consigliere che si alza, non lo gradisco più perché io non ho mai fatto una battuta di quello che avete fatto. Io sto dicendo quello che è un bilancio che vorrei dire il consigliere principale sotto quanto io voglio fare da tutti i consiglieri, non vorrei che fossero mai richiamati da nessuno perché penso che ognuno abbia il diritto nella democrazia di dire alle cose. però attestarsi sempre su quello che si è fatto prima, non sapendo la storia di ogni consigliere e quello che è stato. Io mi sento di essere stato opposizione dalla prima volta che ho messo i piedi nelle municipi. Questo io l'ho precisso adesso e quindi se lo dovrò ricordare sempre. Lei mi ha assimilato a tutto il peggio di umano del mondo, io non l'ho amministrato ma dietro. Bene, ti ho detto adesso e finisco il mio intervento. Nella ricordare all'assessore, se può, che è una cosa molto grave secondo me se noi avessimo studiato sul tavolo questa proposta di piaggio, questo muccedimento ne l'avrebbe conto perché io devo riconoscere uno di quelli invece sereno e trizzarsi un peggio nel merito. Guardi che mi arrivano notizie quella che è stata la donazione di un convento e la tastalmente ancora è inchiestato l'esore. Allora, se si risveglia con l'orco, la sua prigioniere, eh? Quindi, se sono tibonzi, possono spendere. Se proprio non si sveglia. Perché non è? Cioè, è vero che se da poco tempo fa non era probatore il cadastro, ma adesso ci deve essere allineamento che è stato acquistito il patrimonio per il comune di Roma, tutta quella bellissima proprietà. Ne siamo sicuri? Questo è un doppio. E se leggono i potenti uffici e i mezzi che passano per una fisura, c'è tranquillenza di questo. Ma torniamo all'emendamento della riqualificazione di Villa Lazzarone. E' stato fatto l'intervento nel 2012 per la Villa. Lì ci sono le cavità sotterranee che abbiamo provveduto a riempirla di misto stabilizzato ozzolana che costava poco ma che rendeva sicuri. E' venuta all'università di Torpegliata e ha fatto un lavoro enorme spendendo quattriniche potevamo spendere in altri luoghi. Eppure si è fatto l'unico lavoro che io condiviso perché era in palco. Giocavano i bambini, c'erano del gioco di Roma. E' un porto meraviglioso nel cuore di Roma. E' l'unico che tutto sommato c'è la Cazzarella. E' un municipio che ha una densità, una popolazione enorme. E' vero che c'è la Cazzarella da tutta la parte di sotto di Via Latte. La raggiunge di Lazzarone anche come indirizia scolastica. E c'è l'indirizia scolastica. C'è l'indirizia scolastica anche per la scuola elementare di Lazzarone. Ma mettersi prima di tutto il viso se non c'è la sostanza di quello che è il territorio. Ritengo che andiamo a fare delle operazioni che ne qualificano ancora di più. E' giusto mettere a norma l'operazione. Perché l'argomento recente bisogna fare. Ma ancora prima viene l'acquisizione al patrimonio. Ancora prima viene anche l'esterno. Quindi che dire se c'è un elementamento che dice rispetto a quello che c'è. Di iniziare almeno da una riqualificazione funzionale e ambientale. Solo quello che poi si spendono, poi si spende poco per dare un po' di ordine all'esterno. Se avete la fronte a piangere, le dipendenze secche. La fronte a funzionare già da molto tempo. La fronte a restare in mezzo ora. Fu di buon senso per dire che a volte le opposizioni del Giacomo. E di nuovo la consigliere che ha presentato un'emendata, un'ordine del giorno addirittura collegato a un bilancio. così cordoso per fare piccoli lavori che per restare però sugli occhi di tutti e darebbero un giro anche a voi. Come la giuranza e come tutti lo fanno. Questo piano e questo piano. Non mi posso esimere dal potere questo ordine del giorno. Grazie. Un'altra dichiarazione. Non c'era conto con il petri per questo ordine del giorno. Lo dico prima perché non sembra che non l'abbiamo fatto. Si riesce una cosa a prescindere. Ma non li vediamo. Non li vediamo volta per volta. Non li dico perché per noi si scolta. E nel caso appunto che in questo ordine del giorno c'è dietro un mentalismo. Come diceva il collega De Giacomo. C'è un qualcosa che sta a parte della nostra grande. Da una vita insomma è un pezzo di timore centrale. dove molti italiani si insomma passano molto tempo. Come lo dico la giornata è giunce. Allora al di là che non posso pensare che ci sia una discussione. Un'obbio condivisione. Io non mi abbiamo vedrito appunto che Altivate la posatura, che è in questi casi merce. Però qui si si prende l'impegno assessore di poterle comunque visto che mettere a mano Per quanto riguarda l'impianto di charmentì di anticendio. Noi senni 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 cazzo di via fortisciutica, giusto? Sì, vedete che si scriveva davanti, c'è scritto un gioco, c'è scritto un po' la presidenza del Consiglio, c'è scritto un po' la presidenza del Consiglio, signora, che ci sono dei soldi a mettere in sicurezza, se poi dalla vita di finestra dell'edificio, no, perché quando stiamo a mettere in sicurezza, ci rendiamo conto che la contraria è pericolosa, perché non mi hanno fatto una scuola giudizia, insieme andiamo al comune, a dove vorremmo andare, però centralizziamo qualcosa, quindi facciamo un percorso in commissione, dove volete adesso se ne prenda questo impegno politico di fare un percorso, Allora, almeno, un gioco in giovane, o un'altra, un'intensore, insomma, si distruceranno anche a rendere più timorosa, in più fuori per la villa, che è un asserbo. Non ci vanno, ma ti vengono andare come una sale a macinare, però non mi manca la pace di essere lì, c'è, non mi è mai mancata la pace di essere lì, c'è, però prendendo una qualche battaglietta da portare avanti anche se nello locale. Questo è il discorso, cioè, per noi, è sopra dalla favore. Però, prendiamo la battaglia di questo tipo, perché comunque il mio commercio inter-anziani, non c'è, non è il mio, non è il mio, non è il mio, non è il mio, non c'è, non ci fa bene, capito? Cioè, quando noi chiederemo di fare questo ruolo, diciamo, a qualcosa che possiamo fare, oltre alla normale amministrazione, o anche non normale, cioè, oltre a cose che voi avete già messo in piedi, giustamente avete fatto delle scelte. Non siamo fatto tutto, ma se c'è, tranquillizzate, dicendo, faremo un percorso insieme, in commissione, in dibattimento, in comuni, in corso comunale, in una fine di milionare, anche la fiabilità della vita. Io penso che in questo faccio l'olore, al mio tempo che c'è stata un'azione contraria, che adesso dirà, o, o, quasi detto, la commissione dell'ambiente, o l'ambiente, dirà che, non so, a chi è, che dirà, no, busciamo, perché non è della vostra competenza, busciamo il tumore del suo schema. Diciamo, non è della vostra competenza, non lo faremo da tutto, e tutti, come dire, che la mani, come se è simpatica la cosa, e l'Italia, vota favorevole. Nota di capazione? No, mutazione, lavorevoli, contraria, astenuti, tutto, allora viene restito con 11 astenuti, viene non attivato con 11 astenuti, e sempre lavorevoli. Grazie. 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 L'ultimo, vorrei dire, del giorno, che è presente il Partito Democratico, riguarda questo di attrezzature scolastiche, perché, come sapete, arrivano quotidianamente, più volte al giorno, segnalazioni da parte dei genitori, docenti, presidi, circa uno stato di integrato delle attrezzature didattiche e della manutenzione delle classi e degli spazi scolastiche delle scuole di questo municipio, come di tante altre scuole di Roma, ma ci sono alcune situazioni nelle quali la mancanza di attrezzature didattiche, di allagamenti, la mancanza di porte, e molti banchi rendono impossibile il normale svolgimento delle attività didattiche, e quindi, come abbiamo detto tante altre volte, in questo caso parliamo proprio di una lesione del diritto allo studio di molti studenti che abitano in questo municipio, poiché io credo che condividiamo, di fatto che questa situazione non è assolutamente toleabile, nonostante lo sforzo e l'impegno che su questo si collegano l'assessore alla scuola, noi crediamo che sia necessario impegnare in questo bilancio tutti i fondi necessari per garantire l'acquisto delle attrezzature scolastiche per le scuole che si trovano in una situazione di emergenza, attrezzatura, attrezzatura della quale non è possibile garantire il diritto allo studio agli studenti e grazie. I garanzali di voto, le mancanza di consigliere già le persone, moltissimo, sono dovute, un po' di due. E' diritto allo studio, giustamente, all'assessore della scena, il diritto allo studio, così con divide, quindi se è possibile, noi siamo pure in questo randamento, per il foglio del giorno, ricordando quella che dietro al suio si fa utilizzando le sue intuosioni armatissi prometendo questa vaga di tirofusione, quindi è diventato che è complicato, perché il tuo foglio è più che si fa in neri morto tanto che è una pericoltà di visita che è tornato sotto la linea del vino, che comunque è una scuola molto grande non è rimane che c'è la scuola, quindi io vorrei per sì che ci siano disponibili se non oggi, domani, o quando sarà rotto e per avere un piattere sature e strumenti per la didattica. se non ci sono dichiarazioni, non ci sono dichiarazioni andiamo in votazione favorevoli scontari astenuti Allora, viene respinto con undici voti contrari dei cinque favorevoli e abbiamo finito gli ordini del giorno depositati dal Partito Democratico ma adesso passiamo a quelle presentate invece dalla Consigliere di Vigilio che vanno da 1 al 2 si consigliere 3 minuti per il numero 4 grazie Presidente ho presentato questo emendamento cerca di ripristino della segnaletica orizzontale di Viangela, Viatria e Viatria in quanto vari studenti e insegnanti del liceo Augusto e Russell come sapete sono limitrofi a queste emendate hanno rilevato insomma il fatto che queste intersezioni sono stati in teatro di numerosi incidenti che hanno interessato sia a Vigoli che anche dei ragazzi e degli studenti ora a me sembra quasi andiamo parlando sane ma humiliante dovrebbe essere qui io oggi sono consigliere sul ragazzo di 24 anni che ha un rapporto quotidiano con con tutte queste realtà con gli insegnanti con tutti i rappresentanti degli studenti di quelle due scuole venire oggi qui e chiedere diciamo di rifacimento o di impegnarsi di attivarsi in qualsiasi modo per ottenere una segnaletica visibile che siamo inizialmente quasi un'immigrazione detto ciò faccio ancora una proposta che però rilancia un pochino la discussione visto che diciamo questa amministrazione l'amministrazione raggi si è fatta anche diciamo promotrice di nuove le formule di segnare di orizzontale di pedale per autobus innovative ecco io mi chiedo ma per quale ragione ad esempio l'incrugio di Porta Metronia via diciamo via Gallia e anche sopra la parte d'Ictina via nella Palatana sono state trovate queste innovative strisce petrolali dalla head quindi anche che si illumina la sera quando si cammina io dico al triaggio perché non le facciamo a Via Cela a Pirate a Ponte Lungo cioè io voglio dire che fosse chiaro che non è una critica seria semplicemente perché faccio parte di un altro partito quello che voglio dire è che le innovazioni e nuove proposte vengono portate con un funzione maggiore cioè quello non di fare solo un post su Facebook non di fare lo spot perché mi è sembrato questo perché solo fa la pedana dell'autobusola strisce petrolali illuminata stupenda io sono un fan lo dico sono stato felicissimo quando è stata proposta questa cosa però la facciamo solo per fare un post Facebook mi chieda la maggioranza 5 stelle che all'amministrazione raggi se è possibile anche in prossimità di questi due licei licei e liceo Augusto ti provvederò a fare un'illuminazione che è stato un rifascimento della segnala di se è possibile un faro attraversamento sull'energia per le mantine quindi di questi nuovi che ci sono oppure anche delle special light luminose arpeggiate grazie e poi un'indicarazione di voto consigliere di tanti non è non c'è un passo nel termine per la gravazione la dott. 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 e la dott. il nodo ministeriale sono all'impianto in general e questo tipo di internet ha già una Demonia esperanzionale che resta della seguente con le fonti verticali che vengono adattuati e dettagli parla a queste scuole il tutto più sensibile con le sciestiamole quindi con le, con le, sono priorità, quindi insieme a le sedate, sono tanto di aspettare un momento che ci sono, perché noi siamo interminiando tanto a fomentare su tutti quanti, sì, e quindi avremo, è stato superato per il bando, con una situazione che è molto utile, quindi questo giorno è solo, perché è il giorno. Non ci sono dichiarazioni, non ci sono dichiarazioni, allora andiamo direttamente in votazione, favorevole, contraria, astenuti, risolute, дело risolute, 위한 contraria, ragionevole ragionevole c'è un sacco ragionevole Grazie Presidente, ma non possiamo saltare di suicidarsi molto in quanto è stato anche presentato l'anno scorso e devo dirgli, stiamo parlando dell'avventamento, dell'esercizio, dell'apparimentazione interna ai giardini di piazzare di Roma. Ora io come ho detto anche l'anno scorso, ritengo che un'area come la piazza di Roma, che ha un'area a giochi, una frequentazione anche di un pubblico anziano, non possa in alcun modo rimettere delle tradute di alcune persone che a causa della pavimentazione diversa e del mattonellato continuano a correre in incidenti, poi mi contattano, dicendo faccio una casa al comune, ma che devo fare casa? Perché è successo? E con i collaboratori viene per una volta ragionare in un'ottica di prevenzione, non cerchiamo di riservare alcune persone che è stata fatta, io ho riconosso anche a questa amministrazione, è stata fatta la pavimentazione, il mattonellato esterno alla piazza, il presidente di tutti voi, abbiamo anche parlato di commissione, abbiamo stato molto benissimo, visto che a luglio e agosto sono stati fatti tutti i lavori, è stata rimessa un posto, tutta la pavimentazione e mi hanno anche contattato le cittadine, dicendo ovviamente adesso passiamo alla parte interna, perché ciò da adesso, questa è una piccola nuova politica, piazza del Girova, la stiamo facendo una fotografia, una fotografia molto triste, perché piazza del Girova la stiamo vedendo triste, tristemente abbandonata, in uno stato obbligato come è mai stato, adesso indipendentemente dalla pavimentazione, già tutti i cittadini ogni giorno sono costretti a vivere alla presenza di topi, che purtroppo continuano a dire questa cosa, non è stato risolto il problema dei topi, e la facciamo finta che non ci sia, e poi alla presenza di siring, cioè piazza del Girova, un grosso problema, anche di criminalità e di spazio, non facciamo fin di stare in mezzo a una strada, quindi inutile con di tanto che non ho avanti in mezzo alla piazza, con l'occhi brutti da chi sta lì, ragazzi non è questa la soluzione, sicuramente una ragione, illuminazioni, una riqualificazione della piazza, una, ad esempio, la presenza, un'ultima di questi cistini di bambini che sembra di stare dentro la discarica della lava, quello che voglio dire adesso, con l'oggettività, è stata fatta una tonnellata esterna, proviamo a fare anche la parte interna, per impagniere volte le ricadute di bambini che escono a dare a giochi caschi nel sito di lavoro, grazie. Allora, andiamo direttamente a votazione, a consigliere il Girova, sì, voglio un attimo riportare il discorso sul contesto, perché questi comunque si sapevano che tornando al discorso delle competenze dell'unicipo, dell'unicipo, va bene comunque che l'ordine del Girova e questo è stato comunque non respinto nella luce di presidenza del Consiglio, perché non è, diciamo, complica di passare a decidere in maniera qualcosa di un altro, però per ottenere il discorso della discussione, voglio dire che poi diventasse questa cosa come un attimo, come un attimo, perché oggi ha detto che rispetto a quella qualche avanza, mi sono così, ma viene avanzare in nuova posizione, quindi si è tutta una nuova, ma viene avanzare in questo, mi sono già potenziavano via detto, di tutte le cose subito, la prima gente prima cos'è, non ho detto, di tutte le cose, non tutte le disinocupazioni, sono abbastanza fantasciose su quello che ne riusciamo, su quello che vuole fare la vostra Presidente, una delle fontissime particolare, e quindi rispettiamo, però, quello che volevo dire è che la Villa Narsatemi del Comune di Uwe, quindi del Dipartimento Siamo, se riuscire a far intervenire il Dipartimento Siamo per i bambini, la stessa cosa si farà anche per quanto riguarda l'interno della Villa, e anche lavorando su quello che è non certo, ma quella della Polizia all'interno della piazza, perché quella è soltanto una clima, eventualmente non è l'ultimo reggine clima in questo momento, quindi l'intenzione è questa, io sono contatto comunque della politica adottata dalla Presidenza, di accogliere questioni di ragione, perché poi possiamo parlare di qui, anche delle persone che prima adesso sono andati a dire la sfida, ma a che serve questo? Perché loro vedono che noi bocciano, perché c'è un razio burocratico, noi non vogliamo fare il burocratico comunque, e questo mi dico una contesta, forse c'è la stammattina la consigliera Piondo, però un po' dobbiamo antisogliere perché sanno poi uscite le consorzioni come quelle di Piatolia, come il Puntesigliastro, ma che tanto ci vediamo questi consiglieri che prima controllarono per anni hanno controllato, e però non sono riusciti, per Cilio, sia nei punti, e quindi ci dovremmo essere appoggiati, a restringere questo ordine del giorno, a lavorare comunque a questa direzione, a volte abbiamo dimostrato di aver risolvere, quanto riguarda l'incendente, ad interventi differenti, dei tumori, dei giudici, del nostro modo quindi è contrario. Presidente, Presidente, avrei due motivi per rispondere, uno perché mi ha citato un Presidente della Commissione, per cui ci parlo faccio nella dichiarazione di voti, io non ho messo a me la recuperazione medituale, e ricordo che il Consiglio del Fulcino del Supremo, vota, si assume delle responsabilità, e quello che ho detto in merito alla sua Presidente, l'ho detto perché l'ho letto sui quotidiani, che normalmente ha dichiarato forse la stessa, ma non è che la cosa mi dispiace, no? voglio dire che è libera di fare quello che vuole, in merito all'eventamento invece presentato, all'eventamento in cui binario, che le dice fuori dalla competenza, lei ricordo proprio che il Consiglio Municipale è il Supremo, e quindi potrebbe approvare qualsiasi ordine al giorno, anche che vado in una direzione non congruente rispetto al bilancio, potrebbe approvare, non è la prima volta, ma non è la prima volta, e assicuro che anche in precedenza, come garantisco che, visto che ho accennato al fatto che facevano i vecchi consiglieri, io vengo provendo dal X-Rono, quindi non sapevo neppure l'esistenza di mia spadola, l'ho conosciuto per capiter via i tuoi lavori, e non sono uccidati, quindi siamo attenti a quello che dicevo, perché altrimenti non vorrei tornare a un anno fa, abbiamo sperato tanti ostacoli, tante ruffolerie, che magari ci potrebbero anche avvicinare in questi momenti, però evitiamo di rilanciare la mano su un passato che non è di tutti, bene, non lo dico più, in merito a quest'ordine del giorno, devo dire che il fatto di fare alcune opere a Piazza Redi Roma, è fondamentale, chi è intervenuto sull'agriagiochi, quando c'è stato l'incidente, illuminare di più quella zona, o far sì che qualcuno faccia il compito, fondamentale l'ordine, ho ricordato lo stesso giorno dell'interrogazione, che c'era stata un intervento per impristinare Piazzare di Roma, ma lì c'è un esegente grado generalizzato, non bastano le petonelle sistemate intorno a Piazzare di Roma, che avete fatto, ci ha detto il consigliere che mi ha preceduto, che i cittadini sono contenti, per arrivare alla prestazione, però non ci sono i sostenibili, come noi per altre parti di marciapire, che non pugni con altro che evitare l'avendamento, indicare la maggioranza ad essere congruente, rispondente ed educata rispetto alla risposta, e all'associazione di responsabilità rispetto a quello esplicitato. in qualche modo, grazie, mi piace di volo, si è accogliente, ci sono dei riscetti di volo, ci sono dei riscetti di volo, ci sono dei riscetti di volo, guardiamo in una ripotenzione, ci sono dei riscetti di volo, erano dei riscetti di volo, non hai 명li furono, bollicos, in un'altra parola, sono solo i consigli di volo che avevano 5 ore, voleva trovare spinto, se un riscetti di volo e proprio aperto. Grazie Presidente, dunque questo vediamente, è il salve de' del giorno, è legittimo all'installazione di, olio aziende, un'astretta in cosaico, per cicletti, prossimi datti, piazza di Viero, piazza Dei Donsoni, piazza Ricpanntosa, Ora, anche questo è il tema con cui, da quanto sono diventato consigliere, mi sto battendo, anche perché questa amministrazione, l'administrazione Anci, quando si è insediata, non si è promossa, ma comunque, guardate, guardate, trasmissioni delle visite in cui si è andato a fare cartine, progetti, per altri, bisognati, per tutto quello che c'era stato prima di una fossa rispetto a quello che avrebbe fatto questa amministrazione. Di fatto, questo non cino alta, diciamo, l'administrazione, ovviamente, spero che se non abbia un'epidonia di questa nottale, la pista ciclampia di Gato Scolana, che, ripeto, per se vuole, io ho tantissimi sì, mi confermo anche questa, ripeto, sia utraverso questa molti dubbi, sia per l'aspetto economico, questa spesa enorme, sia per l'aspetto di utilità, non di una pista ciclampia, ma di una pista ciclampia di quella modalità, perché c'erano mille altri modi, ma di resistendo l'atto, quello che poi la tiene, e quello che voglio chiedere è che, se noi promuoviamo in questo modo, le piste ciclali otteneranno mobilità sostenibile, come è possibile che il nostro municipio ha pochissimi rastrieri, tutti i ciclisti, la sezione di ciclisti, con cui ho parlato, mi dicono, non sappiamo dove appoggiare, dove appoggiare l'Italia, ma in Italia i panni della segnaletica, dai panni della luce. Allora, quello che voglio dire è che ho visto anche recentemente, chiudo, un fonte della Raggi, questa è una cosa paradossale, un fonte della Raggi, su piazza Renni 1, in cui diceva, prima, dopo, ho messo quella straniera, sulla piazza, praticamente in famiglia, via l'altezza, mi piace, vedetevi, diceva, io ho messo questa straniera, interessante se questo è un spot mediativa della luce, qualche una patria, parcheggio, temanamente, abbiamo riuscito alla città, e pure la straniera, un quarto posti, da tutto rispondati, perché la patria è stata addosso, quello che voglio dire è che non serve fare questa politica, degli spot, poi, vogliamo fare alcune cose, di più largo respiro, ma, iniziamo a rassagliare fuori da ogni catacolità della gattinia, fiscolare di gattinia per potenziali, quando uno prende cos'abbè, di sgiletta, la metro, la lasci al lì e la ti trova, perché da lì non le incendia con la gente da smettere, di cammire la pazzina, o del proprio messo individuale, quindi, da questo punto di vista, non mi serve una spesa enorme, pare la stranieri, che devono diventare una spesa minima, quindi è un ospito che il tuo consiglio accolga quest'ordine del giorno, questo emendamento per migliorare la condizione dei ciclisti del nostro comune cedro. Grazie. Grazie, grazie di conto. Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 un consiglio dove io devo fare la mia dichiarazione di voto, dove è vero che avete portato un regolamento in cui buonavate mettere le rastragliere in ogni condominio, ma non ho pensato a fare il regolamento. Quindi ripeto, va davanti, è giusto mettere le rastragliere in prossimità delle piste città. Questo è il regolamento, non so se l'Analisa Bernabello che l'ha Bresipietro o Capilli Maria Agnese che l'avevano proposto, erano consiglieri del MoVimento 5 Stelle che ci hanno propinato un regolamento, un regolamento per trattuare le rastragliere almeno in ogni condominio. Abbiamo detto che non si arrivava in porto in nessun modo, non è arrivata nessuna rastragliere. Benvenga quindi, benvenga quindi la proposta di Decidio grazie di aver fatto questa proposta di mettere qualche rastragliere in prossimità delle con verità. non miro che tu aveva santo il genere ... ... ... ... A meno… Bene, posso arrivare la medica La Farnia Lotto? Te dico che in merito alle rasseglieri non ci siamo pronunciati in quest'ora, avevano detto che potevano metterle nei condomini però ho detto che nei condomini non è… nessuna rassegliera sto vedendo, questo è quando, quindi, me manca la proposta di stia tranquillo, perchè non si vada con le parole a insussare non si vada con le parole a insussare non ci sono le rastregliere, ne ha messa una in prossimità dell'angolo via Cervetti di Piazza Redirola non è sufficiente, peraltro hanno votato anche la foto in cui hanno diverto tutte le rastregliere, non per bici, erano per motoriere, che erano molto più grandi quindi ne entravano 8, noi le abbiamo viste per carità, per che dire di no? ed è vero che abbiamo votato l'atto e il regolamento per obbligare gli amministratori di condominio è vero che ho detto che non si può fare un regolamento che supera il regolamento condominiale se un condominio dice di no, non poteva metterlo quindi abbiamo ancora una linea, si è ricordato, come se ne danno tante sta dicendo che io la storia riserva veramente grande cioè vedere che rispetto a un bilancio, per avere un attimo l'intervento di regolazione se ne credo di più che sia 25 minuti ma questo è il giorno, ricordando che rispetto a un bilancio 1, 2, 3 rastregliere la maggioranza potrebbe dire sì peraltro l'obbligativo di questa maggioranza, come diceva il consigliere, che non l'ha già fatto bene, grazie io voto sì, grazie sono stato nominato e sono citato e vorrei rispondere all'articolo 65 con modulo del regolamento perché non pensi, come ha detto il presidente secondo me io vorrei chiarire il mio pensiero perché non vorrei essere frentiso non vorrei che venisse frentiso dall'aula, quello che è stato mio comportamento che non aveva niente perché poi non era un comportamento, diciamo, ma da qualsiasi possibile era per un modo diverso bello, 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 bello ma con sono sempre stanchi, non andiamo avanti, altre dichiarazioni, ci sono altre dichiarazioni, la pazia, ovviamente ringrazio i miei pazziari, perché tanto e tanto ha inserito queste specie di bilancio di una volta utile, pratica, anche indirizente, e diciamo, ci metto la risposta che è provocata, diciamo, sì, non ne prevediamo molte, siamo addirittura, ideando sostanzialmente che poi interviene associazioni che sono un po' straisante, non è vero, cioè, ma guarda che non è vero, è stata detta verifera, che prevedeva, non è vero, è vero, è vero, sapete che è vero, quindi pazia c'ha già detto la letta, quindi credo che sia razza accettata da questa maggioranza, a suo tempo nel 2018, questa accettata, quindi la distinzione, la distinzione di diverse modalità di interscambio e quindi di interizzazione della mobilità, credo che potrà essere ulteriormente sostenuta e ringrazio, un punto per la forma sempre specifica, perché contemuto anche noi il fatto di trovare un posto da parte della sindaca di Roma, in cui inseriamo appunto la presenza della rasteria raccina un'altra metropolitana, la formula sotto la cellulare, che è tutta la cazza, praticamente, di Cimotta, e che a quell'intervento, che fa già quasi un qualche mese, non è ancora stato fatto alcun intervento, quindi non so dovresti chiedere a chi ti ha pensato dall'intervento, se non vogliamo fare noi, come già è successo, ad esempio, c'è la famosa cilapide che ci porta, la famosa cilapide, c'è la regola che ci porta a parte degli accolti, ci sono già delle rastrelle, quindi possiamo intervenire eventualmente senza sospettare i grandi congetti, visto che stanno a diricare ancora sotto le menti, per facilitare un po' di permette, per derivare un po' di emozioni, potremo ovviamente intervenire con l'ordine del giorno che a questo punto noi sento di sostenere e ringrazio il proponente di sostenere e ringrazio il proponente. Ci sono altre ricarazioni, non ricordo se l'avete giocato tu? Sì, credo di sì. Votazione? Onorevole? No, è vero, l'avevo giocato. Allora, quanto per chiarire, tanto per chiarire, intanto non volevo riuscire a nessuno, ci mancherete per contrarre quisi di qualche altro che mi hanno speso, ovviamente, in una nuova di capogruppo, davanti qualche capogruppo e davanti un direttore comune. Era semplicemente per chiarire che se ho avuto quella, insomma, di, così, mi sono un attimo vigilato, perché quello che la delibera che esiste, per espressioni di parere che abbiamo dato su una modifica al regolamento, è che, da un piano regolatore, non dice che in ogni condominio deve esserci una classiera, ma no, esserci. Questo è ben diverso da quello che è stato detto. E per questo io mi sono un attimo, così, sono saltato un po' sulla sede, perché quando si dice una cosa per un'altra, si dice fiaschi, fiaschi per fiaschi, questa cosa non è una bella cosa. Mi sembrava, mi ha dato un po', così, personalmente, ma ripeto, una cosa mia, un po' fastidio, che si venisse, che venisse detto, una cosa che era contraria. Allora, però solo per questo, poi io non, ed è profondamente diverso, o vuol dire che se qualcuno vuole la commettere, ma se nessuno vuole non si mette, è per altra cosa da quello che invece si stava discutendo. Quindi bisogna anche saper fare interventi che devono motivare le proprie scelte, che possono essere tranquillamente motivate in tutti gli altri modi che più uno vuole. Però, permettete che se uno dice una cosa per un altro, mi può venire un senso di, come dire, mi fa venire un po' in contraria. Grazie. A loro, qui ci sono persone! Siamo amabili! Sono amabili! Pantori... Questa è un po' inizio? Questa è un po' inizio? Mi è piaccia un po' inizio? Mi è piaccia un po' inizio? Sì, è un po' inizio, ed è un po' inizio! Consigliere principato, consigliere principato, stiamo uscendo dall'aula, non si rende conto, ma perché te hai detto tutto? Allora, adesso basta. Allora, vediamo di cacciarvi tutti, perché è questa per cacciare qualcuno, che non lo metterà un attimo, 5 minuti di sostenzione, vorrei riprendere la seduta, intanto la votazione precedente ha avuto il risultato di 11 con 3 e 5 favorevoli e la 2 viene respinta. Allora, siamo all'ordine del gioco numero 4, giusto, sì, del consigliere Degginio e siamo all'esposizione, sì. Con le anze residenti, dunque, questo è il nostro istorteggio, lo riguarda statuario e statuario, ovviamente per chi lo conosce, se lo ricorda, 5-10 anni fa, io in parte ci sono cresciuto, quindi, diciamo, mi ricordo di com'era negli ultimi anni, ho visto un forte degrade, quindi la fotografia, diciamo, non può che suscerare tristezza e ramare, perché è un quartiere che è stato molto sporco, con delle strade molto dissestate, ha detto al grano delle vibrazioni, mi sono sismiche in alcuni casi, perché, stando molto piccoli, il passaggio dell'autobus crea anche grossi problemi, ma questo è un argomento che affronteremo in commissione, e anche a quest'estate sono al buio, come puoi vedere, di un altro diventamento che ho presentato, e che a questo esempio c'è la presenza, singularmente, spesso troppo dimenticata, diciamo, dall'amministrazione, anche dall'amministrazione presenti, voglio essere onesto, che l'area, diciamo, va all'angolo tra via Squilace e via Pianoa, ecco, di fronte alla parrocchia, il poca morone di Sant'Ignazio d'Antiochia, ecco, questo spazio è chiaramente dedicato alle famiglie, a bambini che spesso fra quanto lo parlo, anche se ci sono vicini anche nelle scuole, per cui la piazza di Leto, soprattutto, per cui, diciamo, molte abbinazioni in questo quartiere, molti comitati, la cittadinanza, mi hanno contattato e hanno già loro provato con azioni diretti di link di qualificare questo parchetto in cui veramente si trovano delle bottiglie di vetro rotte, spaccate, pallonchine, rosciate, siringa, addirittura sotto i tagli alberi, io non voglio che sussi sottovalchino queste problematiche, e quindi con questo eventamento volevo proporre, diciamo, una riqualificazione, una riqualificazione di quest'area, di quest'area di erberia Squilace, con delle idee che possono anche essere, come dire, un po' funerari rispetto a quello che abbiamo sempre fatto, perché, ad esempio, è un'area di cani, perché a tutti i salari c'è un'ottima area di cani, di uscita e di tre, e che fa un lavoro eccezionale, l'aggregazione di quale sono un grande farla, però quello che, da questo punto di vista, mi dispiace, perché anche in questo caso abbiamo un'area verde in cui il municipio potrebbe farsi promotore anche di una sperimentazione di comodità dell'area verde per il futuro, non devono derivare orti urbani, cose che sarebbero troppo belle per Roma, capisco, in questo caso mi sembra, fa un viaggio pintatico, un volo pintatico per Roma, ad esempio, diciamo, spesso che noi siamo, anzi, diciamo sempre, che noi siamo a favore di un'area verde per tutti, ma perché non inseriamo all'interno di quel parco degli attrezzi sportivi, delle spaglieri, delle pantri, qualcosa che permette a chi non può garantirsi una palestra, a chi non può pagare una palestra, perché noi dobbiamo anche dare l'ottima che lo sport deve essere accessi a tutte le tasche e quindi mettere all'interno di un'area verde di farsi promotore, di interventi, di salazione di attrezzi sportivi, potrà permettere a famiglie che non possono magari 3-4 figli, permettersi 3-4 valenti, ma se ne possono permettere solo 2, di garantire un momento di sport, degli spazi ci sono, si possono mettere anche delle piccolari giochi per i bambini, quindi da questo punto di vista io mi auguro che il miraggio, vengono trovate le risorse necessarie a garantire una riqualificazione decorosa e una sistemazione ambientale di questa caratteristica, grazie. Allora, per quanto riguarda, io non ristabilisco un po' l'ordine, io non so poi, non faccio veramente molta fatica ad ascoltare. Dottor, ci sono i metafoni? Allora, per favore, dichiarazione di voto, consigliare a Giuliani. Grazie per averlo presente su questo odio ad ascoltare, in quanto risposto dalla collega che ricorda di essere lasciato nel quadrante, quindi ovviamente si potrà ricordare, ma non presamente, alcune girazioni per l'area verde che si lasce. E' stata anche insinuita nei punti verdi di storia, insieme ai punti verdi di qualità, ai punti verdi bimbo, era una progettualità che era partita nelle fine anni 90 e all'inizio degli anni 2000, dall'amministrazione Brunelli, proseguita con il troni, fino a quando eravamo c'era scelta prima, nel passaggio con Marino, è stato tutto regalato ovviamente, fu eleggere quindi con denunce, penali, caos e pisce, quindi tutto il meccanismo è bloccato, quindi dei punti verdi bimbo che avevano fatto, che erano stati fatti bene, gli altri no, dei punti verdi sono bloccati tutto il corso, quindi anche i vicini di bando, quindi i punti verdi bimbo sono rimasti 3-4 presi, senza un ammigiatura amministrativa adeguata. Dico questo perché poi sull'area c'era questo intervento, c'era un progetto, c'era le cani, c'era un azzeppo da mettere su, insomma un barretto da poter mettere lì, e gli avrebbe comunque malutenuto, purino, eccetera eccetera, ma l'area è tutta privata, quindi come tante altre situazioni, e poi penso che anche la faccia da alzapia, lo disse di quel motivo, come si sceglie di espresso, io non ci sono espresso come la data di via, no, capri ora, l'idro, che la papa, come si chiama, al centro quella di via, la privata no, quindi ho delle aree che poi sono tutte le private, di quelle non, per esempio, accessibili, quindi, ma a partire di questo, dire che quell'area possa essere, come questa, in convinzione di poter essere rigorosamente migliorata, per tutto, che gli possessero le cani, non qua la discussione di quella che sta a uscita 23, che prima dei consigliere, intanto, declamava che è una situazione, ovviamente, che non è ufficiale, quindi io voglio ricordare uscita 23 e che giustizia lì, che sempre in gruppi autici, quindi non è che c'è una situazione attraversi quell'area per degli anni, non è neanche riconosciuta, quindi quella non esiste per quello che esiste, mentre se fosse, se fossero progabonati agli cani, anche in un'area privata, quindi adesso là ci sarebbe l'amministrazione ufficiale, dell'area, oppure la stessa area di Diabolina, nel momento in cui sminierà il percorso, che sembra cominciare una luce in fondo al tunnel, sia per il piatto sportivo, sia per il centro civico, allora lì probabilmente ci sarà un'ufficializzazione, anche di un centro civico o 12 anni, quindi ci vedevo a intervenire, perché io anche vivo a quel palante, quindi insomma, seguo e conosco tutto l'anni, certe dinamiche, non devo essere collega senza togliere nulla, diciamo al pensiero dell'ordine del giorno, ma nel tempo che vedo più preciso, e comunque dire va bene, cerchiamo di qualificarla, non so come perché è privata, però probabilmente si può intervenire successivamente, nel dire fa una parte privata di talco, il comando, non lo so, qualunque altre situazioni è poter farci il progetto, certo è così, non è facile poter intervenire, quindi come l'Italia non è accorto, ma non ci siamo poter intervenire, quindi ci astegniamo, nonostante tutto, perché non è proprio tutto ok, la richiesta, nel senso che è un privato. Sì, una ricarazione con te? No, e perciò, quest'anno ho bisogno di un attimino di che mi disse, io proprio come consigliere, ho incontrato il problema di quell'area, quando a un certo punto venne dalla parrocchia di Sardegliassi, io, in tanti occhi, a due dille distanze, la prima quella un certo punto di fare un po' di polizia, le inti per portamenti notturni, dei vari barburi, perché il campamento era protetti da quella vegetazione che si era creata, tutti in una tavola, la notte, la mattina andava in un parrocchia, uno pa' di un certo punto, ci l'avete visto in Caranova, che problema, ci sono tante, seggendone, anche esempio, e poi che risponde sarebbe stata un'emissione religiosa, numerosa, la seconda è per il tercino, la tante dei dichiarali a valoriarsi a pensare di trovare l'area, con il senso di un paio, in altri minaccio, un anno, assolutamente niente, la rispondigata sta, il nostro occhio è ancora intestato, non si è fatta, non si è capito, 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 non si è coinvolgimento nelle parti apportite dei punti a indigualità, perché dei punti a indigualità noi conosciamo soltanto l'aspetto, da parte proprio delle soluzioni di orientamento politico dell'evoa, non ne sapevo niente, adesso capisco il perché quella cosa è rimasta ancora così, evidentemente, però, siccome ha costruito, la società ha detto, dovrà impiegare cosa è condizionare la situenza, e se la stessa ha costruito quella città, ma si è subito dopo l'erroria, evidentemente l'impianto che andrà a trovare le concessioni inizie, il vede che sì, venne stato un alto doppio, no perché l' alto doppio potrebbe essere un che si impegna a dare a pugnare quell'area, un vero, si deve quell'area a di soluzione, diventare, costruire, non è neppure come prendere a te rubatori, però può essere diventare, però diventare il comune, diventare il comune, diventare il comune, con differenze o assunti, non risultare, non risultare il pevere che poi è attraverso, e anche oggi stanno più stanno la roba, stanno la poesia, perché stanno la poesia in percorazione, e anche, per me non vanno a cercare la condizioni, quindi ci siamo chiedi, quindi ci siamo chiediti su quante, prendere, e trovare, trovare i documenti, e adesso qui, ecco, 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 e perché è passata non rispettando bene le indicazioni, quindi la situazione in questa, quindi la situazione di quell'area è abbastanza indeterminata, ma comunque assurda il valore che c'è quella che ha, quella innovazione, e anche per l'utilizzo di impianti sportivi, perché tutto ciò è che farebbe male, come dire giustamente il consigliere del CTO, però così considerando che poi anche noi, ne pare molti mesi fa, abbiamo fatto una, una mozione per dotare le aree di impianti comunali di impianti sportivi, che non l'abbiamo fatto ancora in Regione di Spagna, e per dotare queste aree di impianti sportivi, come però non è stata fatta in altre, in altre occasioni, quindi la situazione di non è stata fatta in Regione, che potrebbe essere come io, è uno dei nervosi, che insieme a la consigliera del periodo, che ha detto a Punta Rompe, ha dovuto fare per vedere insieme, perché sono diverse le situazioni e non molere che stanno in quel corrente, sia per quanto riguardano la terapia, sia per quanto riguardano la terapia, sia per quanto riguardano il quarto figlio. Stanno avanti a un'altra scatuta, che sono altre vie, altre situazioni, questa situazione è un più maggiorita, è una cosa che riferiamo, ecco, in in questo modo, io direi di essere ecci su queste cose, perché in effetti dare un modo comunale, l'intenzione sarebbe però non sono in grado che, secondo me, appena le cose di essere in grado di fare un'intermella con il punto di consigliere tutto. E sì, no, sì, sì. Anche ora sono Gioce Autostina, sono ringraziando la consigliere Giuliana, anche l'intervento della consigliere Pompei, Presidente Pompei, in quanto non conoscivo in realtà tutta la storia pregretta, questo però, diciamo, non mi scoraggia da impegnarmi, che sono anche nelle prossime settimane, diciamo, a pensare ad attivarci come municipe, una modalità di interessamento rispetto a quell'area, anche, come è stato detto, se è di un privato, come anche altre parti di Roma, è testimoniato da interventi molto positivi che sono usciti anche in zone private, grazie al rapporto con il pubblico e viceversa. in zone pubblico, il rapporto con il privato, io sono uno di quelli, anche per come, penso, in senso più ampio, che è da volerare il rapporto tra privato e pubblico e quindi, se sano, può essere tutto iniziato da parte nostra per migliorare i servizi, chiaramente, come destinatario che ci avessi il privato, ci avessi il cittadino, magari con un'idea di azione, non so, adesso mi informerò per quanto riguarda la proprietà del privato, però magari si può trovare una soluzione che arriva a Dama e quindi garantisce pure una domenica mia di moda e di viazzi, altre declarazioni. Ora se non ci sono delle grazioni, danno in votazione favorevoli, puntari, postenuti. Grazie Presidente, dopo questo del giorno riguarda le votature degli altri rifiuti, ora credo che la città è stata abbastanza beniferica. Visto che tante volte ci si, diciamo, portisce i discorsi di peniferia, poi non ci si torna, non ci si interessa. Diciamo che un mio senso di parco pubblico, se non è un po' di parola, è un'opera, è un'opera, è un'opera, è un'opera, è un'opera molto, molto, molto attenzionale, in quanto varie cose. Per la presenza, se serve niente, ricomincio. Diciamo, riassumendo, questo è il giorno del sud, il parco di Marchisio e l'inchiate delle votature degli alberi di questo parco. Come ho detto, quest'area mi stava segnata da varie famiglie molto preoccupate, molto reticenti a portare i propri bambini a giocare lì, vista la presenza di questi grossi rami non potati. Ora, Roma, diciamo, via da questo punto di vista, forse con una nota chiaramente di carattere politico, è già una città record per alberi caduti, per bus e fiamme, per macchine pulite. Diciamo, manchiamo tantissimi record, chissà poi perché l'Olimpiadi hanno dato a Parigi, ma non è vero perché la Naccia non le ha volute. E di quanto voglio consigliarmi sento veramente di garantire, di impegnare un consiglio di questa serie di bilancio a stanziare delle risorse, non solo per la votatura dualica, da fare oggi, ma per un monitoraggio permanente di quella area. Perché se noi non garantiamo che sopra, al luogo dove giocano i nostri figli, io sono un po' giovane, però insomma, i figli di tutti, le famiglie, se noi non garantiamo, la sicurezza, diciamo, è veramente molto grave. Da questo punto di vista gli dati ci sono le poste, io ho visto che molte famiglie nell'attesa portano anche i bambini di davanti e sono rimasti molto imperdenti rispetto alla città del parco in questa condizione. Quindi spero che almeno da questo punto di vista i consigli accogliano anche una di un'altra, una di un'altra, una di un'altra, una di un'altra chiesta di votatura. Grazie. Degarazioni di voto. Allora, io non ce ne sono. No. Allora, votazione. Aorevoli. Contrari. No, non ci sono state, ma siano muti. Allora, nel rispetto con un tipo di contraria siamo arrivati. Siamo al numero 6. Sì, è una rettifica, sì, la lascio fare assolutamente. No, primamente, appunto, c'era l'ordine. Mi ha giocato a guardare c'era io, però negazione me l'ho scappato. Mi ha dato tutta l'ordine. Mi ha dato l'ordine con me l'ho sbagliato, però che non ho pensato a dire che me l'ha stato un peggio e paurevole. Quindi, poi, devo andare in c'era io, mettere attenzione a tutti se non sembra che l'ho scappato. Grazie. Grazie, Presidente. Quest'ordine del giorno riguarda l'illuminazione, la manifestazione, il statuario. è un antivari, lì, anche se non coliniano, è un antipiabolia. Ora, come ho già detto prima, in altri ordini del giorno, il statuario vive una fase, diciamo, che è appunto veramente negativa, perché tutti, o quasi tutti i residenti continuano a dire che c'è un progressivo con la parella di un peggioramento del quartiere sotto il punto di vista, sotto il punto di vista delle strade, sotto il punto di vista dell'illuminazione, sotto il punto di vista dei rifiuti. si è verificata, però, all'interno di queste strade, che ho attenzionato nell'emendamento, in particolare via Mantea, via Sinopole, via Bolia, una particolare situazione di buio. Quindi, le strade non sono illuminate. E questo ha comportato anche episodi di insicurezza, furti, scicchi, e non analisarali. Ora, sarò veramente molto breve, perché su queste idee, mi auguro che ci sia una condivisione, un video per sentire, e che mi permette la voglia di non vedere una bandiera politica, ma come un progetto e un servizio che diamo ai cittadini nel 2030. Anche questo è un bilancio previsionale nel 2020. non possiamo pensare ancora che si possa avere paura a tornare a casa dopo il 2019. Quindi, io veramente mi auguro che si possa restituire la dignità, anche nella illuminazione alle famiglie, la dignità di poter avere un quartiere in cui non ci saranno delle strade total black. perché, se no, il rischio è che le persone restino a casa, oppure che facciano giri. C'è una cosa testa, una persona che a tornare a casa propria e sentessi simulare parecchino di tre o quattro palazzi, che seguono le strade illuminate, e non può dare otto e mezzo a tornare a casa con la spesa. e questi risulti purtroppo sono avvenuti. Quindi mi auguro che vengano stanziate delle risorse e vengano reperite in bilancio per provvedere a un monitoraggio costante e soprattutto un intervento urgente sull'illuminazione di statuario. Grazie. Prima di continuare, volevo promuovere l'orario di chiusura perché l'abbiamo visto finale 16, io direi che andare avanti e chiudiamo. Cerchiamo, intanto diciamo, finale 18, sperando che ci si riesce, se non sono fino a fine lavori. Allora, dichiarazioni di voto. Consigliere, vediamo il film. Sì, sì, mi stimola il collega di Cilio perché mi fa gli ordini del giorno sul mio potente dove abbi da due, conosco perfettamente tutta la situazione e quindi devo intervenire, per forza. Perché stiamo essendo accorti, mi dici, io ti faccio io gli ordini del giorno e tu interveni. No. No, va bene, non essere accorti di questo, non accortano a me due, no scherzo. Sì. No. Allora, io non... Diciamo qualcosa che a persone che sia accettata non conosco lentamente, come si dice, le parti dove l'illuminazione è chiaramente in modo totale di queste strade perché per correndere con la macchina ti rendi conto che c'è sempre un minimo di illuminazione. però se lui ha scritto questo... in questo modo, solo nella giornata semia che c'è stata quella verifica, allora io esercirei con la collega di Cilio prima che gli dicono vi è bruciato. E questo se lei è d'accordo, lo vuole direi con la certezza matematica che il presidente della commissione urbanistica competente e lavori pubblici possa prossimamente che è rimettere all'ordine del giorno questo e tutto un lega porti che precisamente quei pezzi di strade dal civico al civico dove l'illuminazione o non c'è o è talmente merente che non rende come dice sicuro quello che tu dici il percorso è il passaggio medonale a piedi nel porto del quadrante. Se questo pensi che possa essere decine è diviso perché io abitando lì insomma ho piacere di questo quindi dice mettiamo con le spalle nuove al presidente della commissione di intervenire in un modo scientifico perché poi chiamiamo HG ok? mi seguite Cilio? chiamiamo HG e quindi con le spalle nuove in commissione ci devo dire come l'innovazione della tua macchia perché? capito? se questo può essere una cosa che tu puoi condividere beh, io comunque l'ho avuto però cerchiamo pure l'idea no? visto che il prezziato ci può scelto di capire come produrre poi una risposta piccola o grande o meglio quello che sia intrattenendo di apportare lì sul tavolo della della discussione potere l'Italia pure con le dichiarazioni non ci sono altre dichiarazioni e andremo in votazione dal consigliere Rinaldi ecco 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 poi non la del mirachio, non la del mirachio, non le ho visto tutto, non lo può legare al mirachio, qual è il motivo che su piacere è un premio rispinto. e parla del mondo, inordia, po' le persone si vede a provare a che stiamo avendo il momento, per tutto, mi chiede a essere, e poi per questo, mi ne ha avuto da riposare, una garanzia, qual è? La garanzia è quella che appartiene a la comparazione, se noi possiamo portare in commissione questa cosa e vedere se ci matcha con tutto il resto del territorio perché per esempio, come dicevamo in consigliere, abbiamo delle possibilità sui centroni e c'è il commissione di arrecchione pubblica che ci ha detto quali sono le potenzialità che hanno ogni anno di installare tot di roba di impianti nuovi, quindi per quale motivo uno dovrebbe rifiutare una cosa del genere e se voglio vedere in così strada che io te la aiutavo, ho avuto il consigliere che è un posto dove sentite questa montagna e se no, allora, quindi io apprezzo passando posto, come vedete il consigliere di un intervento di cento tra l'automazione devo prescrivere le prezze, io apprezzo insomma, mi permette sempre demi euro, da demi euro però, quindi, io mi ricordo di che consigliere Giuliano, che ci vuol dire come Giuliano, che ha detto che il mediano di piedi mi prendo la fontiera da indietro 5 Stelle e da un'affulazione...dopo di che io non riterrò l'emendamento perché io credo molto nella politica e tutta la discussione a cui abbiamo assistito fino a poco fa o diciamo da questa mattina riguardo la dialettica del non è questo, non è questa. Io vi inviterò come Movimento 5 Stelle a riguardare quello che voi facevate nella scorsa amministrazione, perché è quello che c'è tantissima amministrazione, non parlo solo municipale, parlo comunale, parlo di tutte le amministrazioni, mi hanno avuto, andate a vedere come non governate e andate a vedere se il Movimento 5 Stelle ha diventato politicamente che qualcuno lega non è pertinente. Io faccio una sfida, mettendo, io so benissimo che questi avventamenti era campante, erano bucciati, ma siamo tutti in ora, però la mia sfida, in senso che so bene alla sfida, attenzione a questo cittadino, la sfida non è che qualcuno di questi si cascate e le votate, e so bene che non le votete nessuno, però voglio dimostrare, per questo sono presentati il massimo, diciamo di avventamenti, che potevo presentare come qualsiasi gruppo, e poi faccio parte solo io, voglio dimostrare quanto c'è stato un cambiamento nel vostro modo di fare politica, cioè voi eravate quindi che in Parlamento occupavate i detti, e quindi io mi aspettavo che se il dipartimento non vi dice niente sul bifere, voi andate occupati del dipartimento, cioè quello che io dico è che bisogna veramente ritrovare, non c'è per i vostri sondaggi, lo dico, bisogna veramente ritrovare quello spirito che ha avanti, perché se oggi purtroppo non siete tutte le persone per bene, questo l'ho sempre detto, anche in mio sito ufficiale, niente per senso che voi non avete, abbiamo una mano a fede, però se non si trova un po' di, non ti dico, rivoluzioni, cioè di usare atteggiamento rivoluzionario, azione competitiva, alternativa, però bisogna trovare dei metodi per scolocalizzare questa città, e secondo me la finella di fare otto emendamenti, di cui otto sapevo benissimo che erano bruciati, è proprio questa, cioè cerchiamo di capire se in un 5 stelle è un movimento che è piuttosto come la politica, la politica progratica, la politica del non è competenza di questo, oppure ancora la politica che occupa vedenti, grazie, quindi non le dirò l'emendamento e prima le faccio bruciare. Ci sono altre regalazioni di otto? E' vao? Ci sono40 tagliare Contare? Asterute? Come prima Aspetute? CSA parla con una la T-M1 Pintola Ok, le prossime due allora, 7 e 8, dunque, grazie Presidente, dunque, l'idea dell'informe rossi, l'idea del giorno numero 7, ad oggetto la terattizzazione di alcuni quadrati, la Pia Latino, Piazza Zama, Piazza Adrigo e Pia Siria, ora, è una questione per cui mi batto da quando sono diventato consigliere, da quando sono stato eletto, e il quadrante Pia Latino presenta questa emergenza, un'emergenza di carattere igienico, ma prima di tutto, anche come spesso sottolineo, perché, ripetirai io, in questo caso è una questione di dignità, che alcuni commercianti nelle strade di Piazza Zama, Piazza Attico, Pia Siria, Piazza Ledioma, non possono tenere le porte dei loro negozi, dei loro esercizi commerciali, dei loro ristoranti aperte, perché mi hanno detto che si fesse volentieri, oltre a sostituirsi all'alba, che come sappiamo in attempiente, si è accontrato a tutti gli obbligi di polizia, che ritirai nella nettezza. Di là i ristoratori devono sospituirsi all'attività che dovrebbe fare l'alba, ma spesso i volentieri devono dovremmo rendarsi, rendarsi dentro i propri locali, perché sennò li entrano dentro i topi. Signori, qui stiamo parlando, non c'è solo di genere pubblica, è bisogno della competenza del Polizia, perché ci pensa di partimento, e non lo abbiamo chiesto, non ce l'hanno dato. Ripeto, ci sono delle realtà per cui, che devono tenere, e mi dicono questa testuale frase, con paura, tenere la porta aperta, e posso anche mandare le lettere che ricevo dai vari commercianti. Quindi quello che ritengo è che le segnalazioni e i cittadini che hanno fatto, curiosamente, non passano, non sono sufficienti. E ci vuole la politica, ci vuole che qualcuno si svegli in questo ultimo anno, ultimo anno e mezzo, che ci va, che dica che non è possibile che permettiamo alle persone di vivere in questa condizione con i topi, a piazzare di Roma, che ci ha trovato più riscivoli, trovando i bambini, che con i topi che fanno fuori dai risparanti riesati, 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 riesati a zanzare. Mi ringrazio che anche questo allenamento non venga bocciato, ma venga portato all'approvazione. Grazie. Io ringrazio il passiere del Giro per aver presentato questo ordine del giorno. No, ovviamente noi voteremo favorevoli. Se veramente un municipio come il nostro non ha anche la capacità di prevedere un intervento di identizzazione di fronte a una situazione così grave, allora vuol dire che siamo inutili e forse ci dobbiamo dimettere tutti. Andrea, dichiarazioni? Allora, io vado, non ci sono qui nella computazione, non ci vorremmo più contare gli estenuti Sì, sono 10 minuti contrarie, 5 favorevoli, quindi 8 di aver scritto, sono il numero 8. Per oggi l'ultimo rendamento ho pensato di dedicarlo a situazioni insonometri emergenti di piazza Ragusa, in qualche modo vi ho citato anche i giochi, ma i problemi di questa piazza sono moltiplici, soprattutto le promesse riguardo a questa piazza sono state moltiplici. Ora devo riconoscere che l'amministrazione ha provveduto alle fognature, sono state fatte come aveva promesso per sempre Nozzi, dei miglioramenti per questo riguardo ai fognatori che erano quasi l'occhiante, il problema che mi segnavano i cittadini è che hanno messo delle indomigie, delle fognature potere fissure talmente piccole che vengono sempre ovviamente possuite alla prima foglia che ci si attacca. Quindi si crea una situazione di allagamento perché le cattuglie e le fognature hanno proprio una conformazione troppo piccola, il lungo è troppo piccola e quindi una foglia che si blocca e lì impedisce lo scorrimento dell'altra piazza. Eppure, restando però al tema chiaramente dell'eventamento, l'area giochi, l'area giochi che non sono state fatte alle promesse, c'è un progetto, ma io quello che faccio, quindi non posso far altro che presentare un atto, perché pur avendo ancora fede che peraltro rispettate quelle promesse mi sembra assurdo che non presentare qualcosa per chiedere all'amministrazione che governa la città da 4 anni di mantenere queste promesse sull'area giochi. Inoltre l'area giochi è sempre collegato a un tema di sicurezza perché l'area, mi ricordo, avete visto durante gli ultimi episodi di Invento, Piogge, Terpesti e di Zempere che ci sono stati, è cascato proprio uno su una macchia rossa, eccetera, la foto, la precarista, la precarista tutti perché il circolato sui social è una roba rucidante, o come pensate, se la roba c'è, può succedere adesso, e non vengono battute con un ureo, mentre un bambino sta dalla ragione, in realtà ha ragione, degradata, in questo caso mi auguro che prendiano reperite in bilancio delle risorse necessarie per riquelificare la ragione per i bambini e provare chiaramente nel senso che abbiamo continuato a garantire la sicurezza, quindi riportatore è piena di razza, grazie. Ricardazione di voto? Non ci sono dichiarazioni? Pazzesco, grazie, Presidente. La proposta è stato progetto, anche di impiancio partecipato, che è stata giumentiata, impiancio partecipato e poi è stata appiacciata dal territorio, quindi, diciamo, di intervento sulla piazza, in ogni caso ci va direttiva da parte dell'assessore del progetto, comunque ha subito delle variazioni, l'intervento partecipato di giugno riva, comunque andando avanti, quindi questa cosa va a portare avanti, e questo ovviamente è un tema capitolino, però è un ottimo aspetto, comunque si porta nella discussione, quindi, però, siccome questo riquelimento sta andando avanti, questo attorno respingiamo, grazie. Ho potuto fare la riquelazione di voto, no? Ok, grazie. Ho potuto dare la riquelazione per i riquelanti, sono felice che ci sarà, spero, il prima possibile, questo intervento di riquelificazione, quanto alla procedura da parte del territorio, mi è stato comunicato che una parte commerciale è stata contraria alla parte della semifiche della riquelatorizzazione, ovviamente, però, tutto il resto, nel senso, si può salvare un po' più, mi verrà anche favorevole, in realtà, questo genere di progetto, però, spero che, insomma, si possa arrivare il prima possibile a dare delle risposte a tutti i cittadini, quindi ovviamente voto favorevole. a dare delle risposte a tutti i cittadini, di conto di riquelazione, votazione di voto dei guai, contadini, quasi noti, si, con 11 contrari, e quanto è sicurevole, e rispetto anche a questa, questo è quello che è del consigliere di Sanluzio, consigliere, se vuole iniziare dal, dal versetto numero 19, prima. Grazie, primo, grazie Presidente, grazie consigliere, prima che, oggi è morti, nel giorno ricorda, la messa in sicurezza dei versi e pieni, dei comezio che si trova alle spalle della scuola di Chirico, e della scuola di Vincenità, tutto un percorso, soprattutto, quando è salgato, quindi, al fai di, e dell'abito, nella spaventurità, piazza del Regno, pretendo che, per intervenire la Presidente, la Junta Municipale, per tirare d'oltre procedure, scelta per i, e mettere in priorità, la loro locazione, il bilancio, per aver navigato i deprediti, con i desiderati, per i lavori di ripristina, questo perché, perché, molti, molti, genitori, sono caduti qua, perché sono un po', come dire, subito, lei un po', quella pedonella, si rialza, e ha visto più di una mamma, cadere, sull'auto sinistro, di via comessa, ecco, io, ho ritenuto di fare, occhi, l'ordine al giorno, che non, non stravolgono, l'impianto, compressivo, di questo bilancio, municipale, di questo bilancio, derivato, questo è l'impegno, che questo, è il primo, potrei farne, tanti, intorno, ma io ritengo, che si debba fare, un piano, complessivo, certo, di tutti, le pedonelle saltate, ma iniziamo, come se iniziano, le piazzare di Roma, diamo delle priorità, rispetto, all'ambito, cognitivo, che conosciamo, questa è una delle zone, più frequentate, la mattina, il flusso, pedonale, e quindi, viene, fortemente, sollecitato, dai cittadini, che non hanno potuto, espressa richiesta, più di una volta, tanto è vero, che sul lato sinistro, di via, ce ne ha messe, qualche anno dopo, sono rimaste intatte, immobili, mentre, dietro, la patente, di via, come se, è saltata, grazie. Grazie, mi rivolto. Sì, io sono d'accordissimo, su questo, dia giorno, non devono presentare, due ordini del giorno, rispetto alle pedonelle, che veramente, sono pericolosissime, per i cittadini, voi, specialmente, dei bambini, per gli anziani, c'è una situazione, di sassoso, oltre, via, come se, via, senti o meno filiattrici, presentare, un dia giorno, che non è andato, assolutamente, all'attenzione, come promesso, dalla commissione, che non è andato, presentare anche, su via, su avvenire, dove, addirittura, c'è un buco, cioè, vedo, le leide, sono, sprofondanti, praticamente, difondi, da una attività commerciale, veramente, che è una situazione, pesantissima, di un momento, che non è mai esposto, dalla vacanza, e poi, l'addi, non prende, neanche, i corsi, e neanche, quest'anno, che siamo, in un'unità, in commissione, perciò, l'idea, oltre, comunque, noi, ciò che non è esso, happens. Champione, ciò che è un giudetto, non吸ano risopend xi, ホ'tano, non si è possibile, spainà, chi va �ere, non si fia consello, типа, se non riuscire o no, non sentiamo le sedice, abbiamo fatto i parciapiedi, è stato proprio, abbiamo attucciato gli interventi, stiamo cercando di coprire tutto, è vero che siamo bravi, però ancora tutto, proprio tutto, non riusciamo a coprire tutte le esigenze, con il fatto che abbiamo dei soldi, abbiamo delle capacità che abbiamo diffusato, queste, insomma, evidenti, però, per quanto riguarda, forse, approfitto, questa cosa ci ha appena, per quanto riguarda, che abbiamo dei soldi, arriveremo, il volo solo mandato al risultato, pur di contura, in questo momento c'è una specifiniera pratica, cioè intendiamo lasciare, come se lo vede ovviamente, la generazione, la mentine di valore ci si si sono aperti, perché, quindi, il risorciamento preciso e punto, l'uole delle storie, per questo motivo, forse, nella generazione, dell'elevenzione, della rivoluzione, per rispondere alle storie, Grazie a tutti, grazie. E' vero che avete fatto il re di Roma alle spalle di re di Roma, i cittadini anche sono diversi, ma ci voglio dire che insieme cadono delle richieste fatte e i vicini lo sanno perché ci sono espresse delle richieste di risarcimento danni, questa è una scusa, come dire, solida per dire noi mettiamo un inferno per non l'esecuzione alla minoranza che propone tale ordine ragione, che non vuole essere un ordine che scompone il quadro finale di un bilancio derivato, le somme sono quelle delle movimentazioni che si possono fare insieme a un bilancio. Ora, se sapete, è una scusa da nulla, visto che non sono quelle sottottate o raccontate in una commissione dove qualcuno può arrivare con la lista della stessa. Ora, se sapete, è una betonina, noi abbiamo Santa Maria Scilatrice, ci vuole idea, ci potrete fare sicuramente con altre somme, ma adesso il consiglio di terminare un attento con somma in bilancio è proprio conveniente per la cittadinanza, tutta e per tutto quel quadrante che percorre le convenzioni, allora che dovevamo segnalare, ma dire sta solo la luna, smart, io obbligo al tuo consigliere, se no potevo segnalare un'altra via di come ho fatto, io per me tutta la città dovrebbe essere, si troverrebbe la tura degli interventi, ma per me noi siamo consiglieri in questo municipio, per qualcuno per la propria zona, non parlo di Stato, ma io parlo di San Giovanni, quindi mi detemi trattisti, anzi, le vorrei raccontare, cioè abbiamo perso notate per scrivere, per cercare di trovare le cose più lunghe e anche in congruenti, perché capisco che alcune cose possono essere l'intervento di partimentale, tutto quello che tu vede, però l'intervento del consigliere, il consiglio di prima, che raccomandava, che richiamava questa trasformazione, questa metamotra, o se ne avete avuto, per me, mi spiace, ma la metamotra sì che non è conveniente ai fini della risoluzione dei problemi, caro Presidente, io naturalmente, essendo rappresentatore dell'ordine del giorno, tutto caporevolmente, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho raccontato con interrogazioni e pari proposte che abbiamo fatto in commissione sia agli intervenuti, che la situazione dei padri, in particolare sia nel piazzare di Roma, di tutto il tratto che va da piazza San Giovanni, da Ponte Lungo e Buio, quasi la metà dei lampioni sono spenti, quindi si richiede un intervento anche parziale, anche parziale di una parte di Roma che può essere più stringente come problema, ma per esempio con l'incidente che è cessato in due direzioni, le macchine si sono cataportate, una nell'area dei giochi membri, l'altra è stata tutta la quercia di fronte alla gelanderia, credendo che la sicurezza di pressionare un minimo di sicurezza con l'illuminazione adeguata, cosa è necessaria in un quadrante. Quindi anche se si potessero attivare tutte le procedure affinché ci potesse essere in primis per piazzare di Roma, un intervento diretto di allogare le risorse in bilancio, perché quanto rigate nella piazza di Re di Roma, è fondamentale, cioè non li abbiamo partecipato a vari eventi, nessuno è fatto, però c'è una situazione di estremo del grado, quindi dell'illuminazione pubblica, e diciamo assicurato che i tecnici hanno partecipato, il formaggio potrebbe essere risolto, ma non è stata ancora risolta, quindi occupo di questo ordine, del giorno che, mi auguro, venga accolto in qualche modo, possa essere inserito in un quadro di soluzione imminente, perché è una situazione di pericolo, ossia gli attraversamenti pedonali, in prossimità di l'artosermona, sia in prossimità di 10 sera, sia in prossimità di un terreno, qualcuno che ho trovato prima di fare la segnalettica, che è un risultato, ma è una situazione di un'illuminazione pubblica, che è introsicente e di scarsa, grazie. Le chiarazioni di voto, no? No? Ma si, non è un po' di carri, non è. Sì, solamente per ringraziare il consigliere Gianci per aver presentato questo avventamento, quello che dicono le premesse di questo ordine del giorno è assolutamente vero e lo potete vedere anche voi. La nostra è una città buia, il nostro municipio è buio, lo sono non solamente, come qualcuno può pensare, le strade secondarie, ma addirittura appunto viaggia nuove piazze di Roma, che in questo caso io immagino di interpretare anche la volontà del consigliere Giancio non solo segnalate, perché sono ovviamente le uniche che ne hanno bisogno, ma perché sono rappresentative del fatto che se voi avviate nuova il piazzale di Roma, che è una delle piazze principali di questa città, immaginatevi che cosa sono le altre città del municipio. Su questo è necessario fare un lavoro importante per garantire l'illuminazione pubblica, per una questione di sicurezza che è legata non solo al fatto che in molti cadono, ci sono incidenti scadali, ma ovviamente come sappiamo una città più buia è una città più insicura anche per chi la attraversa, ormai intorno al periodo infernale nel tardo pomeriggio e sera da soli non possiamo avere paura di girare al centro della città di Roma, perché stiamo parlando di vie centrali e quindi ovviamente il Partito Democratico lo tratta favorevolmente. Volevo solo ricordarsi, per esempio, non solo ricordare che stiamo parlando di ordini del giorno collegati al bilancio del municipio, quindi tanto per l'attività di riportare il discorso nell'anno. Durante la commissione abbiamo parlato dei vari problemi, anche di questo strato specifico, che sarà comunque una strada dipartimentale, che è il servizio dipartimentale, per esempio, per cui io sono intervento direttamente alla rete e tutt'ora. Qui stiamo parlando di chiedere dei spostamenti sul bilancio livello, quindi questa cosa non è seria su questo senso di qui. Mi vedo questa cosa, poi non so se c'è la domanda, non è ragione di questo contatto. Quindi, per nuovi respetti, grazie. Parte di azione. Sì, questo l'abbiamo ripeto per tanti, mentre per tanti oggi giorni non sono ammissibili, che non è la sostanza, non ne voglio ripetere, non ci vogliamo ripetere neanche noi, rispetto al problema che abbiamo assoluto, è la difficoltà che si percepisce sia nel territorio, ma questo a pari di altri ammissibili, dietro la sommatoria di un no. Beh, capisci, questo mi riferisco, è la sommatoria di tutti, quindi è pesante dire, quindi cambiare questo atteggiamento rispetto a una forma o a una sostanza, quindi è prima risposto a uno stesso ammendamento, un ordine del giorno, richiamando il consigliere di portarlo nel consiglio comunale, quindi fare un ammendamento al bilancio di abitudini, quindi è la cosa pure giusta, ma rispetto al problema così schiacciante da settembre del 2008, che ha portato la prima volta l'interrogazione ad oggi, noi non sappiamo dove rivolgersi più. i cittadini cominciano veramente a pensare che diventa nulla o tutto, diventa impassibile, qualsiasi cosa semplice, si rende tutto il problema, assolutamente come non può essere così. Allora, quindi, o si trovano le forme nel bilancio corrente, o dove poi si trovano la forma per chiedere ai ripartimenti, i competenti in intervento, e poi l'impervento da quello di sostituire il corpo illuminante con quello all'elento, ma non è stato neanche. L'euro ricorda dice niente, direi direi che arrivano in commissione, ha detto che stiamo cercando di trovare una soluzione, ma i cittadini aspettano. La sera i ragazzi devono rientrare, però in un buio pace. Chi guida va a sbattere contro piazza di Diogo, questa è la situazione, caro Presidente, naturalmente la mia dichiarazione di voto è un estensore di questo ordine del giorno e il tuo regolo e quindi voterò positivamente, grazie comunque. in un'altra direzione di voto, votazione favorevole, favorevole ce ne sono, un'altra direzione di voto è che nell'altro, come io la sentiamo Piacentino, non abbiamo pazienza, non abbiamo pazienza, non nobody, nessuno. � völlig. the primordia delle voto. otter punte Kopf, str服os Hy, Allora siamo al numero 81. Sì, grazie Presidente, questo è un ordine di giorno particolare, non è difficile rinunciare adesso. Nella sua municipa abbiamo tanti punti di ricorrenza molto importanti che riguardano luoghi della memoria. Abbiamo delle lapide, dei monumenti piccoli che nessuno guarda e nessuno spesso gli dà manutenzione, né tantomeno si porta un fascio di fiori o una corrente o una rappresentativa del luogo che rappresenta. In particolare mi riferisco a Largo Piero, dove c'è una iola con questo momento così importante, però se proviamo ad andare a vedere la iola interna, che è una situazione insupportabile per il luogo, perché la memoria rappresenta, non voglio leggere tutto il testo dell'ordine del giorno, su cui vi pregherei di leggere comunque tutti i luoghi, e sinteticamente vi dico che si tratterebbe di avere qualche piccola, piccola somma per poter celebrare i momenti storici di Alcolonte, ad esempio, Mella Fiorelli, e Mottere il grano è uno di quelli che invece, grazie a Dio, vuol dire, non si ricorda le tozze, qualche somma è stata trovata. Proprio per questo, quest'ordine del giorno vorrebbe ampliare ed attivare tutte le procedure per reperire e mettere in priorità l'allocazione, un bilancio per l'anno degli eventi, le risorse necessarie per anche il recupero e la valorizzazione dei monumenti, delle labere e dei luoghi in cui essi sono obbligati, permettendo un tempale e un concisivo intervento anche attraverso risorse e delle operazioni celebrative. Io ricordo che qualche anno fa non c'eravamo neppure i soldi per portare una corona di fiori o di una corona, ma finché questo episodio non capi di più e tutti ce lo auguriamo, io ricordo che la interna di questo ordine del giorno ha un'ampiezza a 360 gradi che riguarda tutto e riguarda tutti i luoghi della memoria e nel PECS 9, cioè in tutto il settimo di città, e ne sono 40, ecco che vi ho presentato questo ordine del giorno. Grazie. Grazie Presidente, allora io vorrei un attimo capire la razza di questi ordine del giorno e anche rispetto alla discussione che si è fatta, perché ho sentito dall'inizio della discussione sull'espressione e parere di questo bilancio, e poi dopo, se lo vedo il giorno, ho sentito dire che non funziona, non ci abbiamo i fondi, che poi li avete avuti quest'anno per milagro, che nonostante tutti questi fondi a tensione, perché poi non sarete in grado di spenderli, però le abbiamo chiesti alle scuole, ma perché non le chiediamo anche per l'impianto sportivo, però noi abbiamo un attimo capire come ci vogliamo posizionare, perché o i fondi sono troppi, o sono troppo pochi, e quindi andare a chiedere altri fondi, lo possiamo fare per tante altre cose, l'ho fatto anche in un altro intervento precedente, lo possiamo chiedere tanti, tanti, tanti altri fondi, perché sono tante le cose che vorremmo fare, che se dici sono rimaste in sospeso, e io invece vi chiedono qualche manutenzione, perché io sono d'accordo sull'idea, sul principio, e sarebbe una bella cosa riuscire per esempio a fare anche una menzione dei monumenti, diciamo storici, degli acquedotti, tante, riaprire il viadotto su, delle mura latina, tante cose vorremmo fare, per un elenco di 100-200 punti, ma chiaramente bisogna agire per priorità, perché non posso buttare nel cesto tutto, perché rischio poi che non si sa cosa si andrà a fare, allora bisogna andare per priorità, quindi la logica è stata, vogliamo fare, dare priorità alle scuole o agli impianti, che abbiamo detto, ora vogliamo stare alle scuole, perché alle palestre, lo abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno, ma noi ci concentriamo sulle scuole, l'anno prossimo, se riusciamo, riprendiamo, e ci mettiamo a ragionare su quello, sul resto, sulle cose che hanno una priorità maggiore, però dobbiamo avere una quarenza, allora io capisco che sono cose delle tre parentesi, noi abbiamo fatto anche con l'assessore De Santis, abbiamo fatto alcune celebrazioni a costo zero, cioè abbiamo messo alcune labili, alcune indicazioni, in Cedra, ma mi ricordo quella, diciamo, a Piazza di Tirona, piuttosto che l'altra, all'ingresso del municipio, questo San Giovanni, poi abbiamo messo proprio qualche cibo, proprio qualche settimana, ora chiaramente non è che dobbiamo inserire una voce di bianco, specifica su queste manifestazioni, vediamo quello che si può fare, io posso essere, diciamo, mi rendo già adesso disponibile verso il consigliere proponente nel portare, se si impegna a fare un lavoro insieme, per capire quali possono essere tuttanto un po' scaturitose che possiamo fare noi, quali invece non possiamo fare noi, perché anche lì non è una questione di competenza, è una questione che all'interno di quello che noi possiamo fare dobbiamo decidere, se una cosa non è di contosta competenza ma è importantissima ma magari ci storsiamo per farlo, quindi, ma ci viene il fuori cammino, altrimenti abbiamo già le nostre competenze, verso i quali cittadini, ci chiederanno conto, e su quelle noi dobbiamo andare a battere in prima battuta, per cui io, l'ordine del giorno, in quanto richiesta di fondi maggiori sul bilancio, sinceramente non lo proveragli, stiamo restando la disponibilità di fare un percorso in commissione per andare a valutare quelle aree sui nostri unici, voi vogliamo lavorare a valorezzare, adesso è il parco Pinerolo, piuttosto che su Pilafiorelli, non solo Pilafiorelli, capiamo sempre come dobbiamo muoverci, o per cui ha valutato, va benissimo, cerchiamo di capire quali sono le criticità che ci sono e questa idea che mi sembra condivisibile nella sua formulazione concettuale la possiamo portare insieme, valutando con l'assessore le azioni più opportune e più fattibili con il nostro bilancio, ricordandoci che le priorità delle quali dobbiamo misurarci e con le quali dobbiamo andare qua ad affrontare noi il giudizio della cittadinanza che si aspetta da noi un'attività incisiva sono altre, fermo restando che possono rientrare queste attività tra le altre che noi facciamo altre con un impegno di profilo un po' minore non perché non siano importanti ma perché evidentemente rispetto alle origenze rivestono una importanza differenze la considerazione e delle azioni altre dignazioni se considera ci sono ci sono ringrazio il presidente per avermi oggi non stati sconibili da invidere a leggere con attenzione io darei un'idea già da subito perché non è che ci vuole la luna bisognerebbe applicare la normativa esistente E' vero che la Presidente del Municipio abbia fatto un'opera d'arte, dando l'incarico all'artista al Giardino del Monte dei Gran, però in questo momento l'assessore me lo confermerà, secondo un articolo del 43, se non vado errato, che nella disponibilità dell'amministrazione c'è il 2% per opere d'arte. Quindi di qualsiasi progetto, di qualsiasi lavoro pubblico che si fa, mi era la buona considerazione fino a qualche anno fa di destinare il 2% per opere d'artisti e per genere, fattori, troviamo a volte dei mosaici, troviamo delle statue perché si dava, ha dato degli artisti per fare altre nuove opere. Oggi cosa chiediamo? Chiediamo di votare a quello che c'è, e ho proposto quest'ordine del giorno. Grazie. Allora, ce ne sono altre? No, no, altre di eracione che votano. Allora, per le produzione favorevoli? Allora, ce ne sono comunque un tegono, 24, rispetto a 12 punti controlli molto favorevoli e siamo all'ordine del giorno numero 22. Questo è il penultimo degli ordini del giorno. Il penultimo riguarda l'estropio e i lavori per l'esecuzione di un parco giochi nell'area verde di via Cisina. Come ho già detto nell'intervento generale, nel piano economico c'è un importo, una somma destinata per fare il progetto di estropia, per fare il piano porcellano di estropia. Sicuramente l'assessore ci chiarirà che sarà fatto in due tempi e quindi le somme necessarie per l'indegnizio verranno allocate. E' un prossimo bilancio, un assestamento di bilancio, non lo saprei, però mi sarei aspettato che magari si potesse concordare attraverso un accordo di programma come fecero qualche anno fa, in modo errato, perché dietro si impaventava una speculazione, e quindi dando un valore esagerato all'area. Quindi questo allocamento in bilancio mi sembra corretto per la parte del piano, ma mi sembra, come dire, difficile da attuare. Immaginiamo, se questi non ce lo vogliono dare, noi facciamo un'azione di esproprio demanio, o si trova una formula di accordo preventivo, penso che lei ci abbia provato già, abbia già parlato, e ci sia stato un diniego, però ricordiamo che Roma può andare avanti se c'è un accordo anche col governo, perché risponda al Ministero dell'Economia, che fila il demanio, e quindi dovremmo poter chiarirci chi sono i cautori e chi sono gli indiani, per sempre, in un patto orizzontale, corretto e congruente di politica. Se continuiamo come abbiamo continuato oggi in questa ora, non è, non ci rimette poi, sono i cittadini o non vedranno attuate alcune cose. Se invece ci si allinea su un patto di aderenza formulato anche, preventivamente si va a meta. Ma non voglio fare discorsi politici, questo è già di meno dei trent'anni, lo chiamano, anche di più. C'è stata una bella conclusione attraverso una protesta che si è fatta a Natale del 2012, dove un gruppo disperati ha dormito in diapidoglio per mettere, costringere il demanio a chiudere con quell'esperienza di speculazione che stava facendo. E quindi abbiamo obbligato, e la continuazione poi hanno fatto, in particolare l'assessore, penso, perché si vede con i cittadini, mi dicono, del quadrante, a toccare una speculazione e quindi si è messi in sicurezza l'aria. Quindi il giardino di fatto è realizzato alla buona, giocano alberi, tutto quello che c'è in manca, e che la recensione è fatta nuovissima, tutta è bella, però non ci si può andare dentro, perché non è del comune. Quindi l'azione che deve essere assolutamente fatta è quella della posizione, che del resto è contenuta nella delibera numero 75 del 2012. Però il demanio è stato sordo, ha fatto altre bermute, tranne questa di Vecisena. La bermuda era semplice, dove il comune dava una caserma dei carabinieri di Colatina, e loro davano l'aria di Vecisena. E con i cittadini, c'erano 37.000 euro, 37 siamo malerrato di vantaggio per Vecisena. Questa è la storia, per cui crederemo che forse era già di aggiungere l'accordo programmatico che poteva stabilire l'attuale assessore al bilancio con l'agenzia del demanio, che per tutti questi anni è stata sorda e non ha avuto sicurezza ragione, grazie. Degarazioni di voto. Grazie, Presidente. Allora, l'assessore diciamo che nel suo interlocuzione è stato molto chiaro, è stato molto esplicito, quindi io volevo far notare che dei prospetti che vi sono stati inviati, sul titolo secondo è stata stanzata una prima somma, che è una prima somma che appunto è destinata agli incarichi professionali per progettazioni e studi di scelta. Quindi diciamo che si è dissoluto che l'impegno, un fattivo diciamo, della giunta. E noi per questo lo riteniamo un'atturibile, però ripeto, sul titolo secondo abbiamo una prima somma stanziata. Bene, grazie. Altre dichiarazioni? Continuiamo biondo. Sì, per compiare quanto diceva la collega di Chiara, è vero, ci sono questi sogni sul titolo secondo per la progettazione dove il problema è proprio invece che non sono stati chiesti i sogni per l'esplorio, perché nella sezione del bilancio, che sta, diciamo, le tavole e le tabelle che ci sono state date a pagina 816, c'è un elenco di opere pubbliche in cui inserimento è un progetto di bilancio, ma non è stato richiesto per le strutture del capitale, quindi in questo caso il dipartimento è colpevole, perché vengono riportate nel duffo che noi abbiamo per conseguire la protezione delle spese e la fase di progettazione preliminare del titolo secondo, quindi questa è una di quelle opere che a pagina 816 è esplicitamente precisato, perché non è stata richiesta dal dipartimento. E il Partito Democratico vota probabilmente e ringrazio il consigliere Giorgio per aver presentato quest'ordine del giorno. Sì, altre dichiarazioni? Per la consigliere Giorgio. Sino per, come dire, comunicare all'aura che io a pagina 213 ritrovo proprio questo incarico professionale che non serve tanto che fare il piano particellare l'esproprio, cioè valutare che fare a livello catastale della procedura per l'esproprio, naturalmente l'encarno sarà forse un po' di meno, mi auguro, però poi c'è l'indennizio che richiederà il demanio. Ma noi, specificamente, non è ora che abbiamo aspettato 30 anni, potremmo aspettare un altro anno, però si poteva chiudere, secondo me si potrà chiudere ancora perché i tempi ci stanno e nemmeno tempo si andrà a insistere sulla procedura, su un accordo, non so come lo chiamarlo, con un protocollo d'intesa si doveva fare con il demanio rispetto al valore reale, attuale. Non è che noi vogliamo realizzare un futuro, il valore cade, il valore di quell'area cade perché è un'area verde sul PRG, quindi siamo ben attenti su questo aspetti perché molti sono stati infettati con le mani nella marvellata, proprio lì, se voi schiacciate il bottone verde e senna, si vedono questa notte, si vedono i cittadini che scendono la notte dell'Italia e se voi uomani, c'era l'innovazione alle parti scesi in strada del piettorevolo, il giardino dei 30 anni, grazie. Visi. Votra indicolazione di voto. Votazione, il piettorevoli. Contrari. Contrari, essere favorevoli, viene respinto, siamo all'ultimo del consigliere, c'è un gioco al numero 23. Volevi l'illustrazione. Sì, 23, 23, 23, urbino. Io mi rapporto con tutte le persone del portiere dove frequento di più e il giardino vi devo dire che il lato sinistro del giardino in condizioni penose recintato, recinti dei rossi in alcuni punti ci stanno, gli altri no. Ho provveduto a fare l'interrogazione a settembre di qualche anno fa, nessun intervento. Se non hanno fatto qualche intervento su qui, a Rimini, lo devo riconoscere, non si sono soddisfatti i residenti perché ragionano arrivasse la pallatura, però almeno l'hanno fatto. Ecco, io richiederei un intervento per tutti i marciapeni che stanno nel quadrante. Cioè, non che le cellule lì le hanno fatte in betonella in modo condese o furde, si rivela dopo un po' di anni. Se non c'è sotto un buon stato di massetto, meno consolidato e ben fatto, è ovvio che mollano, dopo un po' di parole, lì è la situazione che è pazzesca. Non invito a farvi qualche passeggiata. Quindi, dalla stregua dell'ordine del giorno presentato prima per via Pomezia, il proprio urbino si presenta nelle stesse condizioni, come anche una situazione di estremo degrado per quanto riguarda il manto serratale. Quindi, dove cammini cammini, è male e peggio dopo questa carrellata di ordine del giorno, contro questo, mi auguro che si possa arrivare i termini di traguardi. Grazie. Sotto di direzioni, vediamo. No, votazione, favorevoli. No, votati, votati. Astenuti. Siamo a 12 contrarie e 6 favorevoli, quindi nel respinto. E a questo punto, sì, il giorno sono finiti, ci avevamo messo meno delle 8 ore previste. Sono rimasti ormai in scaletta solamente l'intervento del relatore e dell'assessore, che giura, se volete farli. E poi la votazione dell'attuale. Sotto di direzioni, grazie, grazie, siamo alla fine. Voglio ringraziarvi a tutti, sia per, perché avete comunque, al di là di tutto, presentato, dico tra virgolette, soltanto 23 ultimi del giorno, quanto potevate presentarvi? 1500. Questa è una, ma non è, va bene, lo so, è così. Ma prendiamoci, resta ringraziarvi, è così gratuito. No, perché comunque mi rendo conto che non si è andato verso un ostruzionismo così gratuito. Non mi trovo invece di avvenuto, quindi voglio ringraziarvi, voglio esprimere anche per me una piccola preoccupazione sulla questione che il segretariato ha un po' inviato questa lettera, un po' così bricchiera, diciamo, perché effettivamente occorre davanti a tutti i danni che si possono valentare, comunque il concetto democratico deve essere principe. In tutto, ma consigliere, ci vediamo se la prego di dire, è chiaro che io devo approfondire questa cosa, ma allora, non a comere soltanto piccole, piccole cose, non entro nel merito degli ordini del giorno che sono stati votati, la sua stazione, la sua scelta, perché comunque di fatto registrano delle necessità sul territorio e a prescindere effettivamente dalla competenza esistono. Quindi sebbene, quindi in una via generale, sebbene in questo Consiglio non vengano approvati o per questioni burocratici o per questioni comunque regolamentari, è chiaro che come giunta io rappresento la giunta e saranno attenzionati a prescindere dalla votazione avvenuta, perché sono problemi effettivamente sul territorio, anche se non di competenza, è chiaro che non tutto possiamo fare, siamo per il decentramento, molte volte ci siamo presi la briga di realizzare delle cose che non erano specificatamente di competenza, ma non possiamo fare tutto, se noi lavoriamo a Roma e facciamo il settimo principio, quindi è chiaro che non si può fare tutto. Però ho sentito un po', in generale ho visto come giusto che sia, che sia legittimo, tutte le critiche di ruoli, di qualsiasi cosa, però comporti, lo dico, comporti un po' di imbarazzo, ecco, concentrato soprattutto sull'amministrazione centrale e proprio sull'amministrazione municipale. È vero che si parla di amministrazione raggi, è vero, siamo stati eletti con l'amministrazione raggi, però qui ci sono state delle elezioni legittime ed è stata eletta con l'amministrazione rossi, quindi in premissa, visto che il consiglio ha concentrato fortissime critiche come invece le ha concentrate sull'amministrazione raggi per me comunque, è di fatto un orgoglio perché comunque vuol dire che si riconosce effettivamente il lavoro e nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato, stiamo cercando di portare avanti con tutti i problemi del caso. E' di fatto che si è parlato di metropolitana, si è parlato di abac, di tutto e di più, cosa che con il municipio purtroppo non ha quasi nulla a che fare se non in modo passivo ce le riceve di servizio, in servizi e tutto il resto. Io ho sentito anche delle, non è l'occupazione, come si diceva, ma anche un po' di speculazione oppure di serie, diciamole così, che la Presidente si dovesse, si volesse, l'avesse politicato di presentarsi al Sindaco, io come rappresentante dell'Aggiunta, assolutamente escuro questa cosa e lo dico ancora ufficialmente, quindi non ha nessuna intenzione di presentarsi al Sindaco visto poi anche le, diciamole, le contingenze e le situazioni. Quindi io voglio soltanto dire che stiamo discutendo sul bilancio, abbiamo, prendo atto che ci sono stati, c'è ancora tantissimo da fare, ricordo che ci sono sempre le porte aperte a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione per poter lavorare per il territorio, perché vedete, io ho sentito anche chissà che faremo in futuro, cosa farà, siete da soli, andrete da soli, diciamo che ho queste cose e noi siamo abituati a non pensarci, ma oggi noi pensiamo soltanto quali sono le cose che devono essere fatte ancora per il territorio e quello che interessa. No, ma chiaro, chiaro, noi ci siamo concentrati su quello, forse è stato quello, diciamo quel segreto di riuscire a portare a casa per il territorio qualcosa, perché ci siamo concentrati solo ed esclusivamente dovete soppurre l'ugenza a pensare a quello che sarà dopo, tra dieci anni, cinque, quattro, chissà quali scontri dovremmo portare avanti, forse è stato, questa è una questione di serietà, di rispetto verso i cittadini e di, credo, anche di professionalità, perché scolge ruolo un po' più tecnici e politici, quindi volevo specificare soltanto questo. Inoltre, però solamente ho sentito anche qualcuno dire ma tanto non riuscite a spendere, è difficile, 27 milioni, è come se, non dico, che si stessero guardando, non so, però, proprio ci manca, ma comunque non abbiamo preso soltanto questi 27 milioni, quindi il salto non è stato solo, perfetta 27, diciamo che durante l'esercizio di un anno, il bilancio del municipio si è sempre più arricchito, anche nel 2019, non siamo partiti con 2 milioni, ma nei fatti siamo arrivati a 16, oggi quindi noi abbiamo gestito 16 milioni di titoli secondo, tra il titolo primo, le capacitazioni ci sono, ringrazio l'ufficio perché li stiamo effettivamente stressando, questo è vero, è una macchina che non è adeguata all'effettiva esigenza che c'è al territorio, perché è effettivamente oggettivo questo, però riescono, sono andato con molta forza e con molta difficoltà a stare dietro a tutto, ma dimostra che noi, come struttura di roba capitale, siamo stati gli unici ad impegnare tutto, ad utilizzare tutto, uno scorso che non era un milione, quindi stiamo parlando di decine. Io per le necessità del territorio le ho ascoltate tutte, per quello, scusate se non sono stato presenti in modo continuativo a spedere il 100% di tutto il tempo che avete speso anche voi e tenterò di preferire altre risorse perché so già che questo municipio è in grado di mettere a frutto il regime ulteriori risorse e quindi insieme anche all'Assemblea Capitolina e con le emendamenti chiederemo sicuramente politicamente qualcosa in più su alcune cose che possono essere realizzate. Io andiamo a far tanto da questo senza ripetere tutti gli ordini del giorno e sicuramente sia sul centro nazionale di Villa Fiorelli, sia su Villa Lazzaroni, sia su tantissimi altri argomenti che voi avete portato giustamente e legittimamente, lo dico perché in discussione va tutto, la Presidente e gli assessori si sono già spesi prima e continueranno a spendersi perché è oggettivo la necessità del centro nazionale di Villa Fiorelli, di Villa Lazzaroni e di tutte e tante altre cose che avete detto che non sono di specifica competenza del municipio. Quindi ho capito di aver finito e non ringraziare per aver speso così tanto tempo qui perché non è, diciamo, è una delle cose più pesanti nel consiglio. Ci abbiamo tanto da fare, 27 milioni sono pochi, gli altri per quasi 30, ti do prima di mettere a regime e altre cercheranno altre risorse, cercano di portarle al servizio dei cittadini. L'ultimo inciso su Piesi Sene, perché mi sta abbastanza cuorlo, non lo so perché, perché ho visto dei comitati che hanno lottato veramente, veramente in modo sincero, da 30 anni, non è uno scherzo. E quindi, io ho detto, ci ho parlato in tutti i modi e l'unico modo era quello di andare con un esplopio che si può fare perché non è tanto la struttura che ha in capo l'area, ma è la categoria del bene, che è il bene disponibile. Quindi può essere venduto, può essere ceduto, può essere anche spropiato. Non ho bisogno di fare un accordo col demagno perché vado d'imperio, perché sono un'amministrazione dei suoi interlocali, quindi vado e poi se ci sarà contesto sulla montagna dell'esplopio, se andrà in causa, però non tanto l'area la prendo, te la apro più nella tua cittadini. Grazie. Dicharazioni di voto sulla delibera per espressione di parere. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Ce la facciamo? Io vado in votazione. Per me va bene. Per me va bene, per te sempre qualcuno, ma abbiamo una fretenza. Allora, ragazzi, aspettavate chissà che intervento che trovo dal sessore commesso? E mi riusci a spiazzare con tre cose ovviamente semplici. Come, devo dire, è semplice la sua, il suo modo di dire le cose, devo dire che è molto beniale. Assessore, colleghi, noi non possiamo ovviamente votare un minaccio ancorché così gordoso e lo sanno di più durante sempre di più, però c'è una tensione sui territori che ho ascoltato attentamente, c'è una tensione sui territori, sui giorni di regione, immagino che non sanno tutti da parte a prima pagina, è ovvio, però credo che ci possa essere un'attenzione a parte questa maggioranza, come effettivamente lo può essere, lo è stato in tante altreslazioni che come tecnicismo non potete votare qualcosa che è la santa parte, perché li metteremo oggi nella condizione di accettarlo subito, mentre in corsa gli argomenti possono essere presi e quindi chiamati i doveri sul territorio di regione, adesso anche io di questa una cosa e quindi è facile, come diceva una battuta, consigliere Ciancio o Antonella ogni tanto, insomma, è chiaramente un estivo come a me, fratelle, che non so che non abbiamo letto e che non abbiamo letto, io aspettavo che si potesse andare a parlando, anche il Presidente della Commissione mi ha tranquillità più forte perché dicevo quando è che non va a parlando, a volte, probabilmente ci saranno dei problemi, ma è vero, non so che c'è qualcosa possibile, non so che c'è qualcosa possibile, e quindi per dire che a volte c'è un problema, probabilmente ne aggiuntura, non è facile, però quando ne dice, apposta, quando ne dice non erano due, e poi il 27 sono da 16 a 27, questa cosa mi tranquillizza da più, significa che ci lascia un percorso e questo municipio è abituato a fare, quindi la differenza è da 16 a 27, 21, non da 2, e quindi a prima di ancora ci saranno siamo all'inizio, quindi appunto per andare questa indicazione e io penso anche che ci sia appunto la possibilità di poter influire, ma noi ne lavoriamo tantissimo, e quindi quando ne dice facciamo accettare sotto le sue fede, e noi facciamo assaltanti, come lo dico, le chiamo tanti modi per essere a quarto piano e interloquire, ma ce l'abbiamo di meno, non è possibile, ma ce l'abbiamo di meno, e anche Gesù non sia così perché chi dice deve gestire, deve poter comunque dare indicazioni, però se riuscirà ad avere, questo anno e mezzo, e lo dico perché, prima adesso se l'ha detto, si è concentrato maggiormente le problematiche sulla gestione di l'omecapitale, e meno sui principi i meccani tra quello che l'omecapitale, quello che cresce una differenza, sì, c'è una differenza, e questa l'oppressione, diciamo, l'ha notata, ed essa è anche una cosa di orgoglio, esatto, però, mettiamoci la condizione, questo anno, e mezzo, di continuare a fare questa differenza, cioè, di dimostrare che possiede spiegare, non per chi va troppo bene, ma per chi va bene e viene stragato in accorciato a Roma, a prescindere, che ci tenete ad essere invece, ad essere votatori di soluzione territoriale, quindi quando uno dice, immaginiamo che può essere votatori di soluzione, ma è stato il trucco, ma è stato il trucco questo, che mi siete venuti a prescindere, staccando tra le problemi di Roma, tra le quelle piccolette, invece, mettere la forza sul territorio, se continuiamo a fare questo agitamento, e se noi continuiamo a condizionare, se siamo prosi di anche noi, e adesso e quest'anno e mezzo, per questo municipio, si può avere ancora il periodo di fare un anno e mezzo di politica, niente eccetera, certo ora non possiamo votare un minaccio, ma comunque, anche se infatti non possiamo votare questo tipo di contributo, votaremo in un momento in cui, volta che porta, voi ci dimostrate che vi interessa, i fratelli italiani a votare se vi interessa questo contributo, e quindi per il momento votiamo no, però abbiamo apprezzato le parole reali del suo ragazzo. Grazie. Grazie Presidente, il fatto che il Partito Democratico in realtà, con i giorni del giorno che ha presentato la proposta di bilancio, ha voluto dare un contributo in questo caso, in questa circostanza che vale doppio, proprio è una cosa che accennava lei, perché io l'ho detto in conferenza di via di gruppo, con la responsabilità di andare avanti con i lavori delle commissioni, è ancora sospesa e quindi cercare di arrivare in aula, comunque cercando di migliorare la proposta di bilancio, era un dovere dell'opposizione, quindi da noi ci siamo tirati indietro, almeno qui, riconoscendo la sovranità anche del Consiglio, un lettore delle questioni sulle quali ci è sembrato e, diciamo, della discusione che ci è stata in atto, magari anche la maggioranza è convenuta sul fatto che ci sono salvato delle priorità, che ci sono delle oggettive questioni che rimangono aperte, nonostante, però sono fortuna crescente e sono, in alcuni casi, invece, un punto di un atto, troppo, forse, una disattenzione, un eccesso di rassicurazioni che però se non si trasformano in atti di certezzi, in questo caso per quello che si riguarda l'unica cosa scelta è vedere questo, quindi sto parlando ovviamente della costruzione di Tlaelli, è una costruzione che rimane aperta, sulla quale a questo punto occorrerà trovare una taglia anche in un'altra sede. Ci sono alcune cose sulle quali ci siamo sempre esposti e devo dire che l'abbiamo fatto anche insieme a parte dell'opposizione del Partito Democratico, trovando anche una interlocuzione possibile con la maggioranza, però poi quando si arriva alla fine uno dovrebbe vedere il risultato di quel lavoro e sapessi impegnare le armes e di agosto con tutte le assicurazioni possibili, spingendo insieme, per esempio per una gara che sarà andata persa e poi però ti trovi qui, dove con tanti soldi che vedi, distanziati, vanno anche bene per pensi che quando trovi, come riprendo le parole del Consiglio, sapi che gli ammettano salinesi e poi non tritamente, francamente rimane la mano in bocca, non tanto non ovviamente ma quella città di Nazareth ci sperava. Ho voluto dare un perimetro alla discussione di questo bilancio perché era doneroso, ma non per parlare dei rastorti o dell'acqua, ma per parlare di una questione che sono purtroppo aperte, che sono attuali e che purtroppo non le riflessi anche sull'unno suci, perché non è che i moriscini sono dei satelliti e della prova contraia, che non abbiamo neanche ancora una capacità di postrati stupo, di spaccati, perché noi sempre da lì proveniamo, poi la stanza che la riforma di Roma Capitale si sta disponendo dei modelli di Roma Capitale, che non si può dire, esatto, c'è un Consiglio straordinario in atto, c'è un Consiglio straordinario in atto, c'è un Consiglio che sta decidendo se si può, e devo dire che ha letto una transversale collaborazione da parte delle forze politiche di opposizione e di maggioranza, perché è ovvio che va riconosciuto a questa città un ruolo diverso, è ovvio che è una capitalità di Italia e quindi, infatti, il governo è un'azione che si deve fare, non possiamo mettere queste discussioni anche in un approccio questo piaccio, non l'ho voluto fare, perché sveritarmo, che non ripetisco, che per me non esiste un campo stradotto, non si chiudo, è un ultimo piaccio utile per questa crisi l'azione, ovviamente, deve fare scopo anche, ma troppo, non è la città, quindi possiamo essere qualità tra il numero uno, possiamo anche essere il numero uno, però è ovvio che ci resta, diciamo, ci resta un giudizio complessivo che, purtroppo, non è stato deciso sono queste e troppe le ragioni sulle quali ovviamente ci sarebbe da lavorare su alcune questioni abbiamo preso atto che c'è un impegno che, purtroppo, è frutto di altre priorità che in questa maggioranza ho scelto e sulle quali mi sento di aggivare che in Assemblea Capitolina fare il motivo di tutto per recuperare quello che è possibile questo è un principio di un'opera di avere un'opera di tutti i suoi radio, quindi se arrivassero, diciamo, delle molte risorse, sulle quali abbiamo chiesto di aggiorno ai gruppo, perché non è una sola, è un lavoro importante, tutti questi infattamente non possiamo fare, non staremo lì a pigire, ma ripetiamo quanto stelle, ripetiamo un'opera di un'opera di come spessa e ci auguriamo che in quanto era un determinato giudizio positivo su questa lita, non possiamo casperarci, che almeno quattro delle cose che siano tutti, ci venivano al futuro del nostro momento, che sarebbe ovviamente realizzate, per tutto quello che è possibile, diciamo, abbiamo potuto fare in anyi paesi di augure e di scolzione, allora quanto rimane un giudizio negativo, se non fare il lì il dettagliare è un vero motivo però ci sono anche un primo il primo il primo il primo è un problema un'altra dichiarazione? ci sono altre dichiarazioni? allora se non ci sono molte dichiarazioni andiamo in votazione un po' di mod, tutti ma se non ci sono molte dichiarazioni e se non ci sono molte dichiarazioni se non ci sono molte dichiarazioni se non ci sono molte dichiarazioni e non ci sono molte dichiarazioni per invadire purtroppo noi assessori non siamo ancora un comune autunno io penso a centino e qui confinante con noi che ci sono cinquanta mila abitanti non ce ne abbiamo più a cento ventiniera c'è un'arma autunoma ma che ci si cerca anche con noi è un servizio di trasporto autunomo perciò per forza di cose noi ottenitoriamente perché oggi ritagliamo di bilancio comunale non di un bilancio nostro perché non sia un bilancio nostro io vedo che mi diceva che avevo tutto detto che stanno andando avanti viva Dio spegniamo che ci sia perché non viviamo ogni anno di sofferenza rispetto a questo e era una situazione che non è assenzuare parla più assolutamente non di partito cioè se sui io voglio dire noi ma non gli attivano penso a te e la proposta no vi fattere l'Italia oggi non ci siamo poi ma esplessi che non ci sono in senso di protesta cioè nel senso che noi non l'abbiamo sommesso, noi abbiamo sempre avuto un altro approccio con il suo tio, perciò noi lo abbiamo, però ecco io lo suggerisco questo. E da parte, anche da parte dell'opposizione, lo vedo da parte della maggioranza, perché la maggioranza, l'altranno presenta un po' diagione a crescita puntuale e nonostante io ho detto un impegno da parte della maggioranza, e spesso in tempo tutto dal punto che non lo poter, poi nel senso che queste non sono portate come l'impegno preso in commissione invece è importante, così che queste odi e aggiorno sia un confronto come noi, però abbiamo ogni volta le odi e aggiorno che voi presentate, e non è che potiamo comunque sempre in modo negativo stare, sia il tuo piano e quindi invece è proprio questo funzionismo, io butto un po' lo dito e mi dispiace perché tante volte c'è bisogno di un discorso unitario, rispetto a certi problemi c'è bisogno appunto di non vedere soltanto c'è bisogno di un discorso un po' diagione a queste domande, e quindi il ciò che noi voglio fare un po' diagione a questo tipo di aggiorno e quindi in modo che l'impegno preso in più, quindi la maggioranza che non mi dispiace, è bisogno di un luogo, quindi il gioco è bisogno di un luogo, e il gioco è bisogno di un luogo e il gioco è bisogno di un luogo, ma un luogo, ma un luogo, E anche come forza Italia, tutti è un punto contrario a questo e a questo tipo di ragione. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono. A questo punto sono arrivati in votazione da Giannone. Allora, non ce ne ho sentito. Scusate, stavo rivedendo un attimo anche il giorno dell'anno scorso. Intanto due di quegli ordini del giorno sono stati votati perché sono stati risolti in corso e gli altri effettivamente ci possiamo ripare una solidarietà. E' un'occhiata. Evidentemente sarà succeduta anche il Presidente a me prima persona, però li rivediamo perché sì, 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 assolutamente, assolutamente li rivediamo con me, io e i Presidenti, capiamo, ma sono, diciamo, più difficoltà di portarli in commissione perché c'è anche da portare un'opportunità di Presidente. Allora, ritornando però alla dichiarazione di voto, allora intanto noi abbiamo qui di fronte una proposta e parlo di quella municipale, naturalmente, di 58 milioni di euro si erano mai visti in un municipio. Partivamo nel 2016, forse 25, totalmente siamo arrivati al doppio e sì, come chiusando le parole dell'assessore, sì, la politica si fa partendo dal bilancio e dal titolo secondo abbiamo una capacità di fare politica di 27, quasi 28 milioni, che significa che sono opere che possiamo portare sul territorio a noi, di propria inizia, di nostra iniziativa, che prima non avevamo, quindi prima effettivamente non avevamo una giurità politica. Oggi ci viene riconosciuta, di fatti, e noi ci stiamo prendendo questa responsabilità, oggi votando lo favore o no, e vedo che le opposizioni invece si stanno ponendo in una, invece in una posizione più difensiva. Va bene, ognuno chiaramente prende le proprie posizioni e poi ne risponde chiaramente ai cittadini quando arriverà il momento, però noi non possiamo, per, lo ripeto, per questioni di principio, mettere in secondo piano quello che gli interesse e per questo motivo è per questo motivo che noi voteremo questo bilancio positivamente, ed è perché abbiamo costruito un percorso per arrivare ai 58 milioni, ci auguriamo l'anno prossimo possono essere più, a fine anno con le variazioni e gli assistimenti siamo confidenti del fatto di poter portare a termine queste opere nella forza per prezzi e con l'equilibrio di capire di quello che noi chiediamo, dove abbiamo stato realizzare, ed è per questo motivo che molti giorni del giorno sono stati trabocciati, perché intanto fuori dalle priorità del nostro programma, le mie programmatiche, se andate a rivedere ci sono esattamente le priorità previste e tutto il resto può essere aggiunto in corso d'opera, qualora ci sia la possibilità, ci sia data la possibilità di fare, di aggiungere, di incrementare, questo è la razza che ci spinge a votare favorevolmente questo bilancio, sapendo che il nostro programma è sempre stato la guida delle nostre azioni politiche e questo bilancio inizia a, con questo bilancio diciamo, concludiamo, in una certa parte del programma, le aspettative di quello che avevamo, che avevamo già avuto a fare per altre, abbiamo impostato nel programma un percorso programmatico, come ho detto prima il mio intervento, il mio intervento potrà chiaramente godermi i benefici, ma soprattutto saranno i cittadini, ma da dire il beneficio maggiore, cioè dividere i propri soldi versati con le tasse in opere che vengono trasformate sul territorio, per questo potremo, favorevolmente, per questo potremo. Ci sono ancora simili, sono un saluto. Grazie Giorgio, voglio portare a parlare, a parlare delle dichiarazioni di voto, e ringrazio l'assessore per la solidarietà rispetto al problema che abbiamo, e non è risolto, quindi ci troviamo nei prigionieri rispetto a una nota che merita un chiarimento, altrimenti non siamo legittimati da nessuna, come dire, parere vocale al giorno, qualcosa di carta scritta per legittimare la partecipazione e avere legibilità politica. in questi giorni non ce l'abbiamo avuto, non l'abbiamo partecipato alla commissaria. Io personalmente non mi sono affettato nel scrivere e analizzare tutto quello che si è fatto per il Municipio. Anche io ho una visione un po' critica, ma sicuramente positiva nel senso della disponibilità, nella disponibilità che è avvenuta per tutti i Municipi, non solo per il Rosso. Quindi avrò un'attenzione puntuale nel verificare quello che succederà da qui a un anno, perché il tempo utile è questo per poi realizzare. Sono pienamente soddisfatto il fatto della disponibilità ad aprire un piano programmatico di tutto quello che ci siamo detti, non penso che quello che è stato inserito in questo bilancio che sia frutto solo di una premermazione, rispetto anche dei lavori che comunque sono stati fatti in commissione del contributo che giornalmente abbiamo dato in questi mesi. Ritengo l'intervento miocritico iniziale, non si può aspettare una maggioranza che le opposizioni possono essere comunque anche nella situazione della città in generale. Non si può parlare del Municipio in questo momento perché io ho fatto un primo Municipio, ho fatto un ottavo Municipio come frequento la via Brennissira, quindi Roma merita un progetto complessivo, quindi noi non possiamo pullarci per un progetto futuro di Roma solo sul fatto di dire che c'è un'attenzione particolare e siamo ideocrane. Nel settimo assolutamente non può regnare questa situazione, quindi ritengo che un dialogo anche con il Campidoglio ci deve essere e possa essere l'opportunità. Io ritengo che non si può governare Roma se non c'è l'aiuto e l'appoggio di un governo centrale perché Roma è la capitale e merita un trattamento diverso rispetto alle altre città. E quindi, diciamo, l'accordo che bisogna passare altro, un po' finisco il mantenimento secondo, l'accordo che si deve trovare con il governo nazionale è importantissimo, non si può piacere, con le sue afflizioni e velocità. Proprio per queste difficoltà comunque compaiono le zone che si sono verificate in ogni attimo in quest'ultimo anno, e ritengo di averlo se diciamo che non poter votare questo bilancio derivato ! Allora, dichiarazione chiedita! Votazione, il parere è stato votato favorevole con osservazioni nella Commissione 6 di riscorso e favorevole. 5, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12... E dunque lo sento? ...ga SU CECAAAA DI MEATES, UN MINEPRES, nursing home aida DOR 조i, ... second ак línea o vertical ac abundance you'reiss surveying ...consiglio... ...fine 셀 l'ho de la que se OPys На현 ...e rekhi lo RV Le Sahm isto je te va arar la que se OPUNES ... Keliment attacks ... Grazie a tutti